Il mondo intero mette la questione del cibo al primo posto. Gli esseri umani lavorano per assicurarsi la sopravvivenza e tutti pensano. Certo, abbiamo capito l'importanza della nutrizione, ma in realtà la loro comprensione è rimasta a livello di istinto. Non hanno ancora compreso l'importanza spirituale dell'atto di mangiare. Quando la capirete, la nutrizione diverrà per voi una fonte di benefici e di prodigi, perché ad essa si aggiungeranno altri significati, altre conoscenze, altri lavori da eseguire, altre mete da raggiungere. In apparenza mangerete come tutti e tutti mangeranno come voi, ma in realtà ci sarà un'enorme differenza, enorme quanto quella esistente fra la terra e il cielo. Gli iniziati si sono soffermati da parecchio tempo sull'importantissima questione della nutrizione e sanno come conviene considerarla. Supponete che, in seguito a determinate circostanze, siate rimasti privi di cibo per diversi giorni e che vi siate talmente indeboliti da non poter più camminare né fare un solo movimento. Anche se foste uno studioso, molto istruito, o aveste poteri magici, né le vostre conoscenze né i vostri poteri varrebbero qualcosa in confronto a un pezzo di pane o a un frutto che qualcuno vi porta per rianimarvi. Non è meraviglioso? Non vedete che quel pezzo di pane è un elemento magico straordinario? Un solo boccone ha messo in moto talmente tanti laboratori e forze che un'intera esistenza non basterebbe a elencarli tutti. Ma voi non vi siete soffermati a riflettere sugli elementi contenuti nel cibo né sul fatto che per rimettervi in piedi esso è stato più forte anche dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti o della vostra volontà. Quel cibo al quale date solo un'importanza istintiva e non un'importanza intellettuale consapevole è il solo ad essere in grado di ridarvi forza e salute. Grazie a esso potete di nuovo agire, parlare, sentire e pensare. Gli iniziati hanno dato un posto di rilievo alle ricerche sulla nutrizione. Hanno trovato che il cibo, che viene preparato nei laboratori divini con una saggezza inesprimibile, contiene elementi capaci di conservare o ristabilire la salute fisica e psichica e di portare le più grandi rivelazioni. È necessario però sapere in quali condizioni e con quali mezzi si possono estrarre tali elementi. Al momento di mettersi a tavola, dopo essersi lavato le mani, un iniziato si pone nelle migliori condizioni per ricevere gli elementi preparati nei laboratori della natura. Si raccoglie, si lega al creatore, dice una preghiera, breve o lunga, ed è nel silenzio e nella pace che egli inizia quello che è un processo della più alta magia bianca, la nutrizione. Occorre mangiare nel silenzio perché il silenzio permette di realizzare la concentrazione e la pace interiore. Mangiando non bisogna pensare a nient'altro. Almeno per una mezz'ora si lascia tutto da parte e ci si concentra sul cibo. È molto importante masticare bene perché questo favorisce la digestione, ma anche per un'altra ragione importantissima. La bocca, che è la prima a ricevere il cibo, è il laboratorio essenziale, in quanto è il più spirituale. La bocca assorbe le particelle eteriche del cibo, le energie più fini e più potenti e sono i materiali grossolani a essere inviati nello stomaco. La bocca contiene degli apparecchi estremamente perfezionati, delle ghiandole situate sopra e sotto la lingua, le quali sono incaricate di un lavoro speciale, captare le particelle eteriche del cibo. Quante volte ne avete già fatto l'esperienza? Stavate quasi morendo di fame, eravate quasi esanimi e avete cominciato a mangiare. Sin dai primi bocconi, ancora prima che il cibo fosse stato digerito, vi siete sentiti già ristabiliti, rinvigoriti. Grazie alla bocca, l'organismo ha già assorbito energie straordinarie. Essa ha assorbito gli elementi eterici che sono andati ad alimentare il sistema nervoso. Soffermandosi qualche istante con amore sugli alimenti, l'iniziato prepara il suo corpo astrale a estrarre dal cibo particelle ancora più preziose di quelle eteriche. Quando il corpo astrale ha assorbito tali elementi, ha tutte le possibilità di suscitare sentimenti di un ordine estremamente elevato, l'amore per il mondo intero, la sensazione di essere felici, in pace e di vivere in armonia con la natura. Dovete concentrarvi sul cibo con molto amore, come se da quel cibo dipendesse tutta la vostra salute, tutto il vostro avvenire, tutta la vostra felicità, come se tutti i tesori fossero nascosti in ogni alimento. Pensando in questi termini, preparate il vostro organismo a svolgere molto meglio il suo lavoro e accumulate forze ed elementi sconosciuti che facilitano enormemente tutti i processi fisici e anche intellettuali, riuscendo così a evolvere fino alla perfezione. Dopo aver mangiato il cibo con amore, lasciatevi penetrare da un sentimento di riconoscenza verso il Creatore, perché così riuscirete a realizzare una vera comunione con Lui. Durante i pasti dobbiamo fare un lavoro affinché lo spirito sia presente, si instauri nel cibo e penetri nella nostra stessa materia. Occorre dunque pregare affinché lo spirito partecipi all'atto della nutrizione. Lo spirito compenetra tutte le particelle degli alimenti, tutte le cellule del corpo e a quel punto diventa un fattore straordinariamente benefico per il nostro organismo. L'uomo ha il compito di lavorare sulla materia per trasformarla ed è appunto quando mangia che svolge sul cibo un lavoro di trasformazione. Non si conosce ancora il senso della nutrizione. L'uomo mangia, tutte le creature mangiano, ma perché? Se ponete la domanda a qualcuno, vi dirà che si mangia per avere delle forze. Sì, ma non vi è un'altra ragione? Tutto ciò che facciamo non ha un'unica ragione. L'uomo appartiene a un grado di evoluzione ben superiore a quello della materia da lui assorbita. Quindi, passando attraverso di lui, la materia viene trasformata, animata, affinata, spiritualizzata. Tutti gli esseri si nutrono, piante, animali, uomini, e nutrendosi fanno evolvere la materia alla quale trasmettono elementi che essa non possedeva. È come se fosse un dovere per ogni regno della natura nutrirsi dei regni inferiori per farli evolvere. Il compito dell'uomo è far passare la materia attraverso il proprio corpo per animarla. E questo è il motivo per cui mangia. Avete calcolato tutto ciò che un uomo mangia nel corso della sua esistenza? E siccome tutta l'umanità fa la stessa cosa, ci sono cambiamenti ovunque e la terra non è più la stessa. Quando riuscirete a mangiare secondo le regole che vi do, sarete stupefatti. Entrerete in un altro ordine di vibrazione, vi sentirete legati a tutto l'universo e sarete in uno straordinario stato di pace, di felicità e di pienezza. Il criterio per riconoscere che avete saputo mangiare correttamente è una sensazione di benessere al plesso solare. Non soltanto allo stomaco, ma anche al plesso solare. Una sensazione di forza, di pienezza, perché avendo nutrito il plesso solare, esso è carico di forze che ha estratto da quel nutrimento magico. Se un giorno gli esseri umani impareranno come mangiare, constateranno che anche mangiando pochissimo potranno trarre maggiori energie dal cibo e lavorare molto di più senza fatica. D'ora in poi, la nutrizione sarà considerata come uno dei migliori yoga che esistono, benché non sia mai stato menzionato da nessuna parte. Tutti gli altri yoga sono magnifici, ma occorrono anni per ottenere un piccolo risultato. Invece, con lo hrani yoga, e così che io chiamo lo yoga della nutrizione, i risultati sono rapidissimi. È lo yoga più facile, più accessibile e praticato da tutte le creature senza eccezione, anche se inconsciamente per il momento. Tutta l'alchimia e la magia sono contenute in questo yoga che è il più misconosciuto, il più mal compreso fino ad oggi. È addirittura incredibile che degli esseri intelligenti non si siano mai resi conto dei segreti nascosti nella nutrizione. Perciò, quando ci si trova davanti al cibo, si deve lasciare da parte tutto, anche gli affari più urgenti, sapendo che la cosa più importante è nutrirsi bene secondo le regole divine, perché tutto dipende da questo. Se si è mangiato correttamente, si potrà poi regolare il resto con grande rapidità. Mangiare correttamente permette quindi di guadagnare parecchio tempo e di avere un grande risparmio di forze. Può darsi che non abbiate mai considerato la nutrizione sotto questa angolazione. La nutrizione non è un processo così semplice, ordinario. Dietro l'atto quotidiano di mangiare, Dio ha nascosto per ognuno di noi la possibilità di fare un lavoro psichico della più alta importanza, in quanto la nutrizione concerne la totalità dell'essere umano. Per informazioni www.prosveta.it Buon ascolto di K Radio Brinda www.istitutosoleluna.it E non dimenticate di seguire la nostra web televisione Mola TV su www.clubmoladibari.it Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato, un nuovo presente. K Radio Bologna, chiocciola gmail.com Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam, Hare Krishna e buon ascolto di Radio Brinda da Shamananda Das. Verso 12 Ho anima onesta, questa tua vita è l'ultima e la più perfetta, perché in questa vita sei stato benedetto dal mio favore subremo. Tu puoi ora lasciare questo universo, dove vivono le anime condizionate, e tornare nel mio regno trascendentale, a Vaicunta. La visita che mi rendi oggi in questo luogo solitario, mosso dal sentimento di una devozione pura e incrollabile, è per te una grande benedizione. Spiegazione Quando si possiede pienamente la conoscenza del Signore, nel limite della conoscenza che può avere di Lui un essere perfetto, giunto allo stato liberato, si può entrare nel mondo spirituale, dove si trovano i pianeti Vaicunta. Il Signore era seduto in un luogo solitario ed era sul punto di sottrarsi alla vista degli abitanti di questo universo. Eudava ebbe la fortuna di incontrarlo proprio in quel momento, ricevere da Lui il permesso di rientrare a Vaicunta. Il Signore è presente in ogni luogo e in ogni momento, perciò la Sua apparizione e la Sua scomparsa esistono soltanto nell'esperienza degli abitanti di un particolare universo. Egli è dunque paragonato al Sole. Il Sole non appare e non scompare nel cielo. E' solo agli occhi dell'uomo che il Sole sorge il mattino e tramonta la sera. Bisogna comprendere che il Signore si trova a Vaicunta, ma è simultaneamente presente dappertutto, all'interno e all'esterno di Vaicunta. Verso 13 Oudava, un tempo, all'inizio della creazione, nell'era del loto, descrissi le mie glorie trascendentali a Brahma, che si trova sul fiore di loto che cresce dal mio ombelico. Queste stesse glorie sono celebrate dai saggi nella forma dello Srimad Bhagavatam. Spiegazione La spiegazione che verte sull'essere supremo, così come è stata data a Brahma, e già annunciata nel secondo canto di questa grande opera, è ulteriormente chiarita in questo verso. Il Signore afferma che la forma concisa dello Srimad Bhagavatam annunciata a Brahma era destinata a far luce sulla sua natura personale. La versione impersonale dei quattro versi contenuti nel secondo canto, è dunque smentita in questo verso. A questo proposito, anche Sheridara Svami spiega che questa forma concisa del Bhagavatam si riferiva ai divertimenti di Krishna, e non fu mai destinata a un'interpretazione impersonale. Verso 14 Ogdava disse Ovidura, così benedetto a ogni istante dal Signore Supremo, che se era rivolto a me con tanto affetto, la voce mi venne meno tra le lacrime e i piedi del mio corpo si rizzarono. Dopo essermi asciugato le lacrime, mi rivolse a lui a mani giunte. Verso 15 Spiegazione Coloro che vivono in compagnia del Signore sui pianeti Vaikunta, ottengono un corpo che ha tutte le caratteristiche di quelle del Signore, tanto che sembrano tutti Vishnu. Questa forma di liberazione, una delle cinque che si possono raggiungere, è chiamata Saruppia Mukti. I devoti impegnati nel servizio d'amore trascendentale del Signore non accettano mai la Saiyujya Mukti, che consiste nel fondersi nella radiosità del Signore, il Brahma Jyoti. Nella realtà i devoti possono raggiungere non solo la liberazione, ma qualsiasi altro successo nel campo della religiosità, dello sviluppo economico e della gratificazione dei sensi, tanto quanto gli esseri celesti sui pianeti superiori. Ma un puro devoto come Uddhava rifiuta questi vantaggi, perché vuole solo impegnarsi nel servizio del Signore e non considera il proprio interesse personale. Verso 16 O Signore, perfino i saggi eruditi sentono la loro intelligenza turbarsi quando vedono che ti impegni nell'azione interessata, sebbene tu sia libero da ogni desiderio, e quando appari in questo mondo, sebbene tu sia non nato. Essi si stupiscono anche quando fuggi per paura del nemico, e ti rifugi in una fortezza, sebbene tu sia il controllore del tempo invincibile. Infine, diventano confusi quando vedono che godi della vita di famiglia, circondato da numerose spose, sebbene tu sei soddisfatto in te stesso. Spiegazione I puri devoti del Signore non sono molto interessati alla speculazione filosofica sulla conoscenza trascendentale che riguarda il Signore. Del resto, è impossibile acquisire una conoscenza completa del Signore. Tuttavia, il poco di conoscenza che essi hanno del Signore è loro sufficiente, perché i devoti sono soddisfatti semplicemente nell'ascoltare e nel cantare i suoi divertimenti trascendentali. Queste attività procurano loro una felicità trascendentale senza limiti. Ma alcuni divertimenti del Signore appaiono contraddittori anche ai puri devoti. Perciò Udava chiesa al Signore di illuminarlo su alcune di queste contraddizioni. Per esempio, si dice che il Signore non abbia nessun obbligo di agire personalmente, il che è vero, perché anche per quanto riguarda la creazione e il mantenimento del mondo materiale, il Signore non ne è implicato. Può dunque sembrare contraddittorio il fatto che il Signore abbia sollevato la collina covardana per proteggere i suoi puri devoti. Krishna è il Brahman supremo, la verità assoluta, il Signore sovrano apparso come un uomo. Ma Udava si chiese se egli ha veramente compiuto tutte queste attività meravigliose. Non c'è alcuna differenza tra la persona suprema e il Brahman impersonale. Come può dunque il Signore avere tanto da fare, quando si dice che il Brahman impersonale non ha da compiere alcuna attività, materiale o spirituale che sia, e se Krishna è eternamente il non nato, come può nascere come figli di Vasudeva e Devaki? Egli ispira paura alla paura suprema, il Kala, eppure ha paura di combattere contro Gerasanda e si rifugia in una fortezza, e si trova la soddisfazione in se stesso. Perché prova il piacere nella compagnia di molte donne? Come può prendere moglie? E, come un uomo sposato, trovare piacere nella compagnia dei familiari, figli, genitori e parenti? Tutte queste contraddizioni apparenti confondono anche più grandi eruditi che, così confusi, non riescono a capire se il Signore si astiene veramente da ogni attività o se le sue attività sono solo un'imitazione. La verità è che il Signore non ha niente a che vedere con ciò che è materiale. Tutte le sue attività sono trascendentali. Ma ciò non può essere compreso dagli speculatori profani. Per loro tutto questo è fonte di confusione, ma per i devoti, situati a livello spirituale, non c'è niente di strano. La percezione della verità assoluta come Brahman è certamente la negazione di ogni attività materiale. Ma la concezione del Parambrahman è ricca di attività trascendentali. Colui che sa distinguere tra la concezione del Brahman e del Brahman Supremo è senza dubbio il vero spiritualista. Per lui non c'è nessuna confusione. Il Signore dichiara personalmente nella Bhagavad Gita 10.2 Perfino i grandi saggi e gli esseri celesti hanno difficoltà a comprendere le mie attività e le mie potenze trascendentali. L'anziano Bhishmadeva ci dà la giusta conclusione sulle attività del Signore. O Signore, il tuo essere eterno non è mai soggetto alle divisioni del tempo e la tua conoscenza perfetta non ha limiti. Certamente avresti potuto prendere tu tutte le decisioni. Eppure mi chiamasti perché ti dessi il mio consiglio come se tu fossi perplesso. Tu che non sei mai perpresso. Questo tuo comportamento mi lascia confuso. Spiegazione Uddhava in realtà non fu mai confuso ma afferma che tutte queste contraddizioni possono apparire sconcertanti. Tutti i discorsi che Krishna e Uddhava si scambiarono dovevano andare a beneficio di Maitreya che era seduto accanto a loro. Il Signore aveva l'abitudine di consultare Uddhava quando la città era attaccata da qualche nemico come Gerasanda o durante l'esecuzione di grandi sacrifici nel quadro delle sue abituali attività come Reddit Baraka. Per il Signore non c'è passato, presente o futuro perché egli non è in alcun modo limitato dall'influenza del tempo eterno. Niente dunque gli rimane nascosto egli eternamente intelligente in sé stesso di conseguenza il fatto che gli chiamasse Uddhava per avere i suoi consigli è senz'altro sorprendente. Tutte queste azioni del Signore possono sembrare contraddittorie sebbene non esiste alcuna contraddizione nelle attività abituali del Signore perciò è meglio considerarle così come si presentano senza perdersi nel tentativo di spiegarle. Verso 18 O Signore, se pensi che siamo adatti a riceverla ti prego spiegaci quella conoscenza trascendentale che fa luce sulla tua persona la stessa conoscenza che tu hai già esposto a Bramagi. Spiegazione Un puro devoto come Uddhava non prova alcuna afflizione materiale perché si impegna costantemente nel servizio del Signore con un amore trascendentale. Un devoto si sente afflitto quando è senza la compagnia del Signore. Il ricordo costante dell'attività del Signore lo tiene in vita perciò Uddhava prega al Signore di illuminarlo sulla conoscenza dello Sherimad Bhagavatam così come egli l'aveva precedentemente rivelata a Bramagi. Verso 19 Quando gli ebbi espresso i miei desideri più cari il Signore Supremo dagli occhi di loto mi istruì sulla sua natura trascendentale. Spiegazione Le parole Paramamstitim sono significative in questo verso. In realtà la natura trascendentale del Signore non era stata chiarita a Bramagi quando gli furono rivelati i quattro versi originali dello Sherimad Bhagavatam 2.9.33-36 La comprensione della natura trascendentale del Signore include anche quella dei suoi rapporti con i devoti assorti nel suo servizio d'amore trascendentale come gli abitanti di Dvaraka e di Brindavana. Quando Krishna illuminò Uddhava su questo particolare argomento egli si rivolgeva soltanto a lui perciò Uddhava disse precisamente Mayam A me sebbene anche il grande saggio Matreia fosse presente. Questa natura trascendentale del Signore non può essere compresa da coloro la cui devozione è mescolata alla conoscenza speculativa o all'azione interessata. Le attività del Signore che si svolgono in un sentimento di amore confidenziale sono rivelate molto raramente alla generalità dei devoti che sono attratti da una devozione mista alla conoscenza e al misticismo. Queste attività formano i divertimenti inconcepibili del Signore. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra Emanuela Torri Buongiorno carissimi e carissime nel Signore perché la differenza c'è e vorrei prima di tutto augurarvi buona domenica perché oggi appunto è il 24 maggio e ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali e stavamo leggendo stiamo finendo di leggere oggi lo finiremo ho fatto il video di questa stanza che di solito lo faccio la sera proprio perché vorrei finire questo testo perché ne abbiamo tanti da leggere prima di tutto bevo la mia pozione perché fa veramente molto caldo e quindi stavamo nel paragrafo delle prospettive su scienza e filosofia riprendo un attimo da un po' più su di dove abbiamo lasciato così per capire un po' di che cosa stiamo parlando una persona dice gli evoluzionisti moderni in ultima analisi fondono la loro teoria sull'esistenza di variazioni di causalità casualità scusate casualità perché c'è la differenza tra casuale o causale cioè i religiosi pensano quindi tutto il pensiero filosofico di tipo teistico ovviamente pensa che tutto abbia una causa e gli impersonalisti la fanno originare dal nostro sé e gli altri i creazionisti la fanno iniziare da l'idea che c'è appunto un dio quindi comunque sia in tutte e due i concetti chiamiamoli così in queste due in tutte e due le interpretazioni si presuppone che ci sia ci sia appunto una causa che o parte da te stesso come il concetto del libero arbitrio o che parte da un'altra entità molto importante fuori da te che appunto la possiamo chiamare dio la possiamo chiamare la legge del del karma quindi la legge della causa e dell'effetto che è sempre comunque una legge mistica comunque c'è una grande differenza ovviamente nel pensiero che ha prodotto l'essere umano che sia di origine divina o che sia di origine meramente umana c'è appunto questa netta differenza tra chi pensa che a tutto c'è che su tutto e quindi è per tutto c'è una causa e chi invece pensa che questa causa non c'è ma è semplicemente una combinazione chiamiamola casuale di cause quindi è un po' un controsenso per noi spiritualisti però esistono queste due branche di pensiero chi pensa che a tutto per tutto e per tutto e in tutto ci sia una causa e cioè una causa divina quindi un dio che pensa o una causa personale quindi di noi che comunque abbiamo un'anima siamo anime poi dove andremo quello che faremo non si capisce bene per alcuni perché diciamo mettono da parte l'idea di un dio e quindi è come se non essendoci questo dio in realtà tu sei il dio di te stesso e invece chi pensa che che non c'è niente e che è tutto semplicemente frutto di appunto con cause casuali cioè quindi tutto è un caso tutto nasce dal caso cioè dalla combinazione casuale di alcuni presupposti diciamo chiamiamoli così che generano poi quello che abbiamo intorno no quindi è un po' questa la differenza tra il pensiero che è di tipo spirituale teistico e il pensiero di tipo scientifico almeno comunque di una grande branca della scienza che non pensa che a tutto ci sia una causa volontaria quindi di una persona nella fattispecie di un dio che crea e controlla e genera tutte le cose ma le cose avvengono per una serie di combinazioni casuali di cause quindi noi ovviamente in queste nostre stanze cioè nella stanza delle letture casalinghe che di solito facciamo la mattina o nella stanza delle letture spirituali speciali ovviamente stiamo approfondendo quella che è l'idea di cause originaria e cioè nella sfattispecie di un dio che comunque è l'origine e la fonte di tutto e quindi automaticamente stiamo approfondendo cercando di capire quello che è il pensiero causale cioè che parte da una causa ben precisa è un tema molto interessante quello che stiamo approfondendo e chiaramente sarà di attirerà attirerà e attira perché vedo che c'è qualcuno che appunto segue queste letture le persone che come me nel corso degli anni hanno forse capito che vivere pensando che tutto sia una combinazione casuale di eventi non renda gli uomini migliori e siccome l'obiettivo è che principalmente diventare migliori persone migliori per farci notare da la personalità suprema che in questa stanza la possiamo nominare così e perché questo ci ci dà una soddisfazione migliore e nella migliore delle ipotesi ci rende anche persone migliori quindi non dannose per gli altri per noi stessi e per gli altri e quindi utili alla società perché questo è molto importante perché esiste il mondo spirituale per noi spiritualisti ma esiste anche il mondo materiale che stiamo vivendo adesso e quindi dobbiamo cercare di essere quanto meno meno dannosi possibile per gli altri quindi il lapsus dal quale è partita tutta questa spiegazione è così in questo momento come sapete no io non preparo niente ma è un quello che facciamo è un happening cioè un avvenimento che si svolge così in diretta anche se il video io poi lo salvo e lo pubblico su youtube ma è tutto così insomma è tutto un happening quindi ricominciamo una persona dice gli evoluzionisti moderni in ultima analisi fondono la loro teoria sull'esistenza di variazioni di casualità ecco questo è il concetto e Prabhupada risponde questo non ha significato non esiste il caso se loro dicono caso allora sostengono cose prive di significato la domanda rimane ovviamente chi ha creato le differenti circostanze per l'esistenza di diverse specie per esempio parlano adesso in questo caso delle specie animali questa persona risponde una rana per esempio può deporre migliaia di uova ma fra tutte solo poche sopravviveranno e diventeranno rane adulte quelle che ce la fanno sono più idonee delle altre se l'ambiente non selezionasse favorevolmente i più forti allora ci sarebbero troppe rane sì risponde Shri La Prabhupada questo maestro importantissimo di tradizione Gaudiya Vaishnava le rane e anche molti altri animali depongono uova centinaia un serpente partorisce molti serpenti ogni volta e se dovessero sopravvivere tutti sarebbero un grande disturbo perciò i serpenti grossi divorano quelli piccoli è la legge della natura ma dietro alla legge della natura c'è un cervello ecco vedete questa è la nostra proposta la legge della natura non è cieca perché dietro di essa c'è un cervello e questo cervello è Dio apprendiamo questo dalla Bhagavata Ghita tutto ciò che succede questo si trova questo verso si trova nella Bhagavata al capitolo 9 il verso è il 10 tutto ciò che succede nell'ambito della natura materiale è diretto dal Signore Supremo il quale mantiene tutto in ordine così i serpenti depongono uova in grande quantità e se molti di questi non fossero distrutti il mondo sarebbe sopraffatto dai serpenti in modo analogo il maschio della tigre uccide i suoi cuccioli la teoria economica di Malthus afferma che ogni volta che c'è sovrappopolazione dovrà esserci lo scoppio di una guerra o di un'epidemia una carestia o qualcosa di simile per contenerla lo stiamo vivendo adesso questo c'è un'epidemia l'epidemia del covid 19 che ormai diventerà anche 20 perché comunque ancora sta girando è diventata proprio una pandemia e non ha risparmiato a quanto pare nessun paese nel mondo ma queste attività naturali non hanno luogo casualmente sono pianificate chiunque dica che esse dipendono dal caso ha una conoscenza insufficiente Darwin però scusate devoto però Darwin ha un'enorme quantità di prove Shri La Prabhupada prove questo va bene anche noi abbiamo delle prove le prove devono esserci ma non appena ci sono delle prove non si dovrebbe parlare di caso devoto tra milioni di rane per esempio una può essere più idonea a vivere nell'acqua Shri La Prabhupada ma questo non è un caso fa parte di un piano egli non lo sa non appena si nomina il caso ciò significa che la conoscenza è imperfetta un uomo parla di caso quando non è in grado di spiegare è evasivo perciò la conclusione è che la sua conoscenza è imperfetta e quindi quella persona non è qualificata a impartire alcuna conoscenza sta imbrogliando tutto qui devoto darmi darvi vede un piano o un disegno in un certo senso ma e qui la Prabhupada lo interrompe se lui vede un piano o un disegno allora di chi è il disegno se ammetti che ci sia un disegno devi anche riconoscere che ci sia un disegnatore se c'è un piano ci sarà un pianificatore questo Darwin non lo sa questa persona risponde ma il piano è solo l'opera involontaria della natura si l'idea appunto che la natura l'esistenza si auto riproduca in questa maniera diciamo quasi così meccanicistica senza che ci sia dietro una volontà ovviamente Prabhupada come tutti gli spiritualisti teisti che credono che ci sia un dio teos il dio non possono rispondere infatti dice non ha significato quello che stai dicendo c'è un piano il sole il sole sorge quotidianamente secondo calcoli esatti non segue di certo i nostri calcoli siamo noi che facciamo dei calcoli secondo i movimenti del sole vedendo che in una particolare stagione il sole sorge ad una determinata ora possiamo sapere che secondo la stagione il sole sorge esattamente alla tale ora minuto e secondo non è a capriccio e per caso o per caso che tutto questo accade ma secondo un piano minuzioso quindi proprio perfettamente dettagliato niente casuale i buddhisti addirittura dicono adesso mi viene in mente una cosa bellissima che lessi tanto tempo fa perché nel buddismo c'è il discorso dell'interconnessione di tutte le cose no quindi anche questo fatto questo fatto è un qualcosa di miracoloso no allora leggevo tanto tempo fa che addirittura un battito di ali di una farfalla nel deserto è fondamentale per far partire tutto un sistema di leggi fisiche insomma cosa veramente cioè che non è insignificante voleva dire questa che neanche quel battito di ali di una farfalla in mezzo a un deserto chissà dove anche quel battito ha un senso no quindi proprio perché dice non è a capriccio o per caso che tutto questo accada ma secondo un piano minuzioso quindi è tutto come dire tutto niente è lasciato al caso ecco quindi tutto ha un senso secondo questo tipo di pensiero no devoto però non puoi dire che accade tutto in modo meccanico Srila Prabhupada e allora chi lo ha reso meccanico se qualcosa è meccanico deve esserci qualcuno che lo ha reso tale un cervello che ha fatto la macchina ecco qui c'è qualcosa di meccanico Srila Prabhupada indica un telex chi l'ha fatto questa macchina non si è creata da sé è fatta di ferro e il ferro non si è trasformato da solo in una macchina c'è un cervello che ha reso possibile l'esistenza della macchina così tutto in natura ha un piano un disegno e dietro quel piano o quel disegno c'è un cervello un cervello molto grande questa persona Darwin ha cercato di rendere l'apparizione e la scomparsa delle forme viventi così naturale e involontaria che Dio è completamente fuori scena la teoria dell'evoluzione fa sembrare che la combinazione degli ingredienti materiali abbia creato la vita dopodiché le varie specie si sono naturalmente evolute l'una dall'altra strila prabhupada questa è follia combinazione significa Dio è Dio che combina la combinazione non accadono automaticamente supponiamo che io stia cucinando ho molti ingredienti a disposizione per cucinare ma essi non si combinano insieme da soli io sono il cuoco e cucinando combino insieme ghee ghee sarebbe del burro in India è il burro come lo intendiamo noi che però viene chiarificato nel senso che loro lo fanno bollire 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 e poi lo filtrano quindi è un burro chiarificato che non ha dentro niente di impuro quindi se combino insieme di spezie riso dal dal sarebbero come i nostri legumi no? quindi come lenticchie fagioli così e così via e in questo modo si producono dei buoni piatti in modo analogo affinché gli ingredienti della natura si combinino insieme c'è bisogno di Dio altrimenti come accade che a un certo punto ci sia questa combinazione metti forse gli ingredienti in cucina e ritorni dopo un'oretta pensando che il pranzo sia pronto non ha senso chi cucinerà il tuo pranzo morirai di fame ma se c'è un essere vivente allora si può cucinare e poi mangiare questa è la nostra esperienza perciò se c'è combinazione chi fa questa combinazione sono degli sciocchi a non sapere come la combinazione abbia luogo devoto gli scienziati adesso dicono che la vita ha avuto origine da quattro elementi di base il carbonio l'idrogeno il nitrogeno e l'ossigeno strilla prabhupada se questi elementi chimici sono il principio fondamentale chi ha creato questi elementi questa è la domanda che bisogna fare devoto cioè devoto nel senso la persona con la quale prabhupada sta parlando è evidentemente un suo discepolo non lo so non è possibile che un giorno la scienza scoprirà l'origine di questi elementi chimici sta chiedendo questa persona e strilla prabhupada non si tratta di scoprire la risposta è già nota sebbene possa non essere nota a te noi la conosciamo il vedanta dice la fonte originale di ogni cosa è il brahmano krishna 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 dice io sono l'origine di tutto così noi sappiamo che c'è un grande cervello che sta facendo tutto noi lo sappiamo gli scienziati possono non saperlo e questa è la loro follia devoto loro potrebbero dire la stessa cosa di noi no risponde prabhupada non possono dire la stessa cosa di noi noi accettiamo krishna ma non ciechiamente i nostri predecessori i grandi acarya e i grandi eruditi hanno accettato krishna come l'origine di tutto perciò noi non stiamo facendolo ciecamente noi affermiamo che krishna è l'origine ma cosa possono dire gli scienziati non appena si parla di caso significa che non c'è conoscenza noi non diciamo caso noi abbiamo una causa originale ma loro dicono caso perciò non hanno conoscenza questa persona dice cercano di risalire alle origini facendo degli scavi hanno scoperto che gradualmente col passare del tempo le forme animali si stanno sviluppando verso le forme sempre più complesse e specializzate da quelle invertebrate ai pesci poi agli anfibi poi ai rettili e agli insetti ai mammiferi e agli uccelli ed infine agli umani e in questo modo molte specie come i dinosauri apparvero prosperarono e scomparvero per sempre si estinsero alla fine creature simili a grosse scimmie apparvero e da esse gradualmente si sviluppò l'uomo questa è l'idea darwiniana appunto dell'evoluzione della specie no? Srila Prabhupada questa è la teoria che il corpo umano viene dalle scimmie devoto gli esseri umani e le scimmie sono collegati vengono dalla stessa e viene interrotto Srila Prabhupada collegati tutto è collegato questa è un'altra cosa ma se il corpo quindi vedete anche Prabhupada dice appunto che c'è questa interdipendenza no? perché comunque nella sua religione filosofia idea di Dio dell'essere del sé è incluso anche quella che poi è stata no? il pensiero buddista ovviamente ma se il corpo della scimmia si sviluppa nel corpo umano perché allora il corpo umano si è sviluppato e la specie delle scimmie non cessa di esistere? grande domanda questa persona risponde gli esseri umani e le scimmie sono rami dello stesso albero Srila Prabhupada sì adesso esistono ambe due similmente noi diciamo che al tempo in cui gli evoluzionisti dicono che la vita ha avuto origine esistevano già gli esseri umani devoto non trovano prove di questo Srila Prabhupada perché non ci sono prove? devoto sotto terra con gli scavi non trovano la dimostrazione di questo nei loro scavi Srila Prabhupada la terra è l'unica prova? non ci sono altre prove? devoto l'unica prova che essi accettano è la testimonianza dei loro sensi Srila Prabhupada tuttavia non possono provare che l'essere umano non esistesse al tempo in cui dicono che la vita ha avuto origine non possono provarlo questa persona sembra che in alcuni strati di terra ci siano resti di uomini simili a grossi scimmie Srila Prabhupada uomini simili a scimmie e simili simili a uomini esistono tuttora insieme agli esseri umani se una cosa si è sviluppata dalla trasformazione di un'altra vita allora la cosa originale non dovrebbe esistere più quando una causa ha prodotto il suo effetto in questo modo la causa cessa di esistere come se per esempio lui vuole dire per esempio se io prendo che ne so del ghiaccio lo metto in un bicchiere e lo metto al sole automaticamente quel ghiaccio diventerà acqua quindi diventa un'altra cosa però il ghiaccio all'inizio che c'era all'inizio quel cubetto non c'è più questo senso penso no? ma in questo caso noi vediamo che la causa è ancora presente ci sono ancora scimmie e scimmioni il devoto ma non furono le scimmie a dare origine all'uomo ambe due sono discesi dallo stesso antenato comune questo è ciò che essi dicono quindi esiste un antenato comune del quale evidentemente si sono perse le tracce e da questo antenato comune sono venute le scimmie e sono venuti ci sono evolute nella scimmia cioè nasce la scimmia e nasce l'essere umano secondo questa teoria Srila Prabhupada noi affermiamo che tutti veniamo da Dio lo stesso antenato lo stesso padre il padre originale è Krishna qui è Krishna nella manifestazione di bambino Krishna Gopala come Krishna dice nella Bhagavad Gita io sono il padre che dà il seme allora qual è la tua obiezione a questo il devoto se esaminiamo gli strati del terreno non ci sono prove negli strati più profondi Srila Prabhupada sei tutto impacchettato fra gli strati della terra tutto qua tale è il confine della tua conoscenza però questa non è conoscenza ci sono molte altre prove e questa persona sicuramente se gli uomini fossero vissuti milioni di anni fa avrebbero lasciato delle prove della loro esistenza un'evidenza tangibile potremmo vedere i loro resti vedete questo ragazzo che parla lo sta mettendo alla prova a Prabhupada sta facendo delle domande affermazioni molto precise e Srila Prabhupada io dico che nella società umana i corpi sono bruciati dopo la morte cremati perciò dove trova la loro dove trovano perciò dove trova le loro ossa la sua la tua scavatrice sì è possibile ma Srila Prabhupada secondo il nostro sistema vedico il corpo dopo la morte viene bruciato fino ad essere ridotto in cenere perciò dove troverebbero le ossa i farbutti gli animali non vengono bruciati e le loro ossa rimangono ma gli esseri umani vengono cremati e perciò non si possono trovare le loro ossa perché c'è nell'usanza della società vedica che pare che sia la società secondo questa tradizione che abbia dato origine proprio a tutto a noi c'è l'usanza di bruciare i corpi quindi Prabhupada che fa riferimento a quella cultura dice non è possibile perché nella nostra tradizione il corpo una volta morto viene bruciato proprio per un fatto poi tra l'altro importantissimo anche igienico quindi lui continua però sto solo dicendo il ragazzo insomma che lo sta mettendo a dura prova dice sto solo dicendo che dagli strati di depositi sulla terra sembrerebbe che le forme biologiche tendano a progredire da quelle semplici e primitive a quelle più complesse e specializzate sempre di più fino a che l'uomo civilizzato appare si si preoccupata però al momento attuale esistono sia le forme semplici sia quelle complesse non che una specie sia sviluppata in un'altra per esempio il mio corpo di bambino si è sviluppato ed è diventato adulto e il corpo di bambino non c'è più così se le specie più evolute si sono sviluppate da quelle più semplici inferiori non dovrebbero esserci più le specie più semplici eppure vediamo che adesso tutte le specie esistono simultaneamente quando allo stesso tempo si vedono tutte le 8 milioni 400 mila specie di vita come si può parlare di sviluppo ogni specie esiste adesso ed esisteva molto tempo fa potresti non averla vista ma non è la giusta fonte di conoscenza potresti aver mancato di vederla ma questa è un'altra cosa devoto ma tutte le prove dimostrano altro 500 milioni di anni fa non c'erano animali di terra c'erano solo acquatici e si la propuppata vedete com'è insistente questo ragazzo questo non ha significato non è possibile fare la storia di 500 milioni di anni dov'è la storia di 500 milioni di anni stai solo immaginando tu la chiami evidenza storica ma quale evidenza non c'è storia oltre 3000 anni fa e tu parli di 500 milioni di anni sciocchezze non ha senso vedete devoto ma se scaviamo in profondità strato dopo strato e con la terra tu vuoi calcolare 500 milioni di anni potrebbero essere 10 anni non c'è storia della società umana oltre i 3000 anni come puoi dunque parlare di 4 500 milioni di anni fa dov'eri tu allora c'eri tu per poter dire che tutte queste specie di vita non esistevano questo è solo immaginazione ma in questo modo chiunque può immaginare e dire qualsiasi sciocchezza noi accettiamo l'evoluzione ma non che le forme delle differenti specie stiano cambiando i corpi sono già tutti presenti ma l'anima si evolve cambiando corpo e trasmigrando da un corpo all'altro io mi sono evoluto dal corpo di bambino a quello di adulto e adesso il mio corpo di bambino non esiste più in modo analogo tutte le specie esistono al presente ed esistevano tutte nel passato per esempio in un treno c'è la prima la seconda e la terza classe ci sono tutte simultaneamente se tu paghi di più e viaggi in prima classe non puoi dire adesso la prima classe si è creata c'era già così il difetto degli evoluzionisti è che non hanno alcuna informazione dell'anima l'anima si evolve trasmigrando da un compartimento all'altro cambiando semplicemente collocazione il padma purana afferma che ci sono 8 milioni 400 mila specie di vita e l'anima si evolve attraverso di esse noi accettiamo questo processo evolutivo l'anima si evolve dagli acquatici alla pianta agli insetti agli uccelli agli animali e infine nelle forme umane però tutte queste forme ci sono già non cambiano non è che si estingue una e l'altra sopravvive tutte esistono simultaneamente e il ragazzo continua Darwin dice che ci sono molte specie come i dinosauri che si possono considerare estinte Srila Prabhupada che cosa ha visto lui? non è così potente da poter vedere tutto ovunque la sua capacità di vedere è limitata e con tale capacità limitata non può concludere che una specie si è estinta non è possibile nessuno scienziato accetterà una cosa del genere in fondo tutti i sensi con i quali si acquisisce la conoscenza sono limitati perciò come puoi dire che questo è finito e che quello è estinto non puoi vederlo non puoi scoprirlo la cincorferenza della terra è di 25.000 miglia hai cercato attraverso tutti gli strati di rocce e terreno su tutto il pianeta hai scavato dappertutto il devoto ragazzo risponde no e Srila Prabhupada per questo la nostra prima accusa contro Darwin è questa e gli dice che non c'erano esseri umani milioni di anni fa questo non è un fatto possiamo vedere al presente che gli esseri umani esistono simultaneamente con tutte le altre specie e si dovrebbe quindi concludere che questa situazione è sempre esistita la vita umana c'è sempre stata Darwin non può dire che la vita umana non esisteva non vediamo dinosauri in vita dice il devoto tu non vedi perché non hai il potere di vedere i tuoi sensi sono molto limitati perciò quello che vedi è che non vedi non può essere autorevole per questo tanta gente la maggioranza dice non vedo Dio allora dobbiamo fare forse anche noi allora dobbiamo forse anche noi accettare che Dio non c'è siamo forse pazzi perché siamo devoti di Dio il ragazzo risponde no ma i dinosauri puntini puntini non puoi sostenere il tuo caso per il solo fatto che non vedi dinosauri che dire di tutte le altre specie ma il devoto continua anche molte altre specie si sono estinte Sì la proprio diciamo che accetti l'estinzione di molte specie perché il processo evolutivo significa che una specie gradualmente si sviluppa in una specie più evoluta e l'altra sparisce si estingue noi possiamo vedere che ci sono ancora molte scimmie l'uomo si è evoluto dalla scimmia ma le scimmie sono scomparse ci sono le scimmie e ci sono gli esseri umani e il ragazzo continua tuttavia non sono convinto se facciamo una ricerca geologica in tutto il mondo non solo qua e là ma in tutte le parti del mondo in ogni caso troveremo le stesse cose e Prabhupada io dico che non hai cercato in tutto il mondo Darwin ha forse studiato tutti i continenti del pianeta è forse andato nelle profondità degli oceani e scavato tutti gli stradi di terra là sotto no perciò la sua conoscenza è imperfetta questo è il mondo della relatività e qui tutti parlano con conoscenza relativa perciò dovremmo accettare la conoscenza di una persona che non si trova nell'ambito di questa relatività devolto in effetti Darwin formulò la sua teoria sulla base di ciò che aveva osservato nel 1835 durante un viaggio alle isole Galapagos vicino alle coste del Sud America egli notò che là esistevano specie di vita che non erano presenti in nessun'altra parte del mondo Shri La Prabhupada questo significa che non ha visto tutte le specie non ha viaggiato in tutto l'universo ha visto un'isola ma non ha visto tutta la creazione come può dunque determinare quali specie siano sott'ora esistenti e quali no lui ha solo studiato una parte di questo pianeta ma ci sono molti milioni di pianeti lui non li ha visti tutti non ha scavato nelle profondità di tutti i pianeti come può concludere questa è la natura non ha visto tutto non è possibile per alcun essere umano vedere tutto e lui ma rimaniamo nei confini di questo pianeta Shri La Prabhupada no perché dovremmo la natura non è solo su questo pianeta e ragazzo perché tu hai detto che su questo pianeta ci furono forme complesse di esseri viventi milioni e milioni di anni fa Shri La Prabhupada noi non stiamo parlando di questo pianeta ma di qualsiasi posto tu stai parlando della natura ma la natura non è confinata o limitata a questo pianeta vedete la psicologia dello spiritualista no come svetta proprio svetta nell'infinito no cioè considera appunto quest'universo che in realtà non è uno ma sono milioni di universi no come nel nostro caso noi stiamo in un sistema che è il sistema solare che appartiene a una galassia questa galassia però in realtà ci sono milioni di galassie questo è scientifico quindi lo sguardo dello spiritualista è veramente illuminante cioè è una grazia che ci arriva no perché non c'è proprio il limite il limite il limite non c'è è qualche cosa che si rinnova continuamente e ci dà veramente un altro tipo di sguardo no tu stai parlando della natura ma la questa strilla preoccupata ma la natura non è confinata vedete o limitata a questo pianeta non puoi pensare questo la natura la natura materiale include milioni di universi vedete e in ognuno di questi universi ci sono milioni di pianeti se tu hai studiato solo questo pianeta la tua conoscenza è sicuramente insufficiente e lui continua guardate come incalza sto ragazzo bellissimo questa conversazione tu però hai detto prima che milioni di anni fa su questo pianeta c'erano cavalli elefanti uomini civilizzanti si si e lui ricontinua però da centinaia di fonti diverse non c'è prova di questo e si la preoccupata io dico che esistono adesso uomini cavalli serpenti insetti alberi e allora perché non milioni di anni fa e il devoto il ragazzo perché non c'è evidenza di questo si la preoccupata questo non significa tu limiti la tua analisi a un solo pianeta questa non è conoscenza completa e ragazzo per il momento vorrei solo scoprire riguardo perché per il momento se la tua conoscenza non è perfetta perché dovrei accettare la tua teoria questo è il mio punto guardate bellissimo mi emoziona veramente è bellissimo perché pravupada cioè la sua umiltà anche se lui è un realizzato cioè lui è una persona che ha realizzato completamente Dio ovviamente però guardate con che umiltà si mette proprio a argomentare cioè argomentare con questo ragazzo quasi alla pari proprio alla pari cioè lui il ragazzo dice le sue cose e lui risponde proprio in maniera veramente bellissima allora gli dice appunto dice ma io perché dovrei accettare la tua conoscenza la tua la tua teoria che non è perfetta perché è limitata perché per pravupada questa teoria è limitata perché si limita solo allo studio della terra no e il ragazzo continua beh se tu dici che milioni di anni fa c'erano complesse forme di vita su questo pianeta sila pravupada su questo pianeta o su un altro pianeta non è questo il punto il punto è che tutte le specie esistono e continuano ad esistere secondo le leggi della natura apprendiamo dai testi vedici che ci sono 8 milioni 400 mila specie di vita può darsi che si trovano nel tuo quartiere o nel mio il numero e le specie sono già stabiliti se ti limiti a studiare il tuo vicinato tale conoscenza non è perfetta accettiamo l'evoluzione ma la tua teoria evoluzionistica non è perfetta la nostra teoria di evoluzione invece è perfetta accettiamo cioè la nostra teoria di evoluzione invece è perfetta sappiamo dai veda che ci sono 8 milioni 400 mila specie di vita che la natura produce ma l'anima nonostante il corpo cambi rimane sempre la stessa in ogni condizione per quello che riguarda l'anima non c'è alcun cambiamento e perciò la Bhagavad Gita afferma che colui che è saggio il Pandida non vede le differenti categorie o specie vede uguaglianza unità Pandida ha sama dar shinaha chi vede fino in fondo vede l'anima e non trova differenza fra tutte le specie il devoto ragazzo allora Darwin e tutti gli altri scienziati materiali che non hanno conoscenza dell'anima e lui lo interrompe non riescono a vedere il vero punto della questione il ragazzo continua essi dicono che tutti gli esseri viventi tendono a evolversi dalle specie inferiori a quelle superiori nella storia del mondo Prabhupada questo si può accettare per esempio in un palazzo ci sono differenti tipi di appartamenti prima classe seconda classe e terza classe secondo il tuo desiderio le tue qualifiche e la tua capacità di pagare un certo affitto ti ha concesso di vivere in un appartamento migliore gli appartamenti ci sono già non stanno evolvendosi sono i residenti che si evolvono trasferendosi in nuovi appartamenti secondo le loro capacità e i loro desideri il devoto secondo il desiderio sì secondo la nostra mentalità al momento della morte otteniamo un altro appartamento un altro corpo ma l'appartamento c'è già non che io debba crearmelo e i differenti tipi di appartamenti cioè i corpi sono già fissati sono 8 milioni 400 mila proprio come un albergatore la sua esperienza è che i suoi clienti desiderano varie facilitazioni perciò lui organizza situazioni diverse per soddisfarli tutti similmente questa è la creazione di Dio egli conosce il pensiero di ogni essere vivente e così ha creato tutte queste differenti specie secondo tale criterio quando Dio pensa su vieni qui la natura subito ubbidisce la natura offre le sue facilitazioni Dio Krishna è situato nel cuore di ogni essere vivente come Paramatma e lui sa che cosa l'essere vivente desidera così il Signore ordina alla natura dagli quell'appartamento e la natura obbedisce sì vieni ecco qui il tuo appartamento questa è la vera spiegazione il devoto io capisco e accetto tutto questo però sono ancora confuso su perché non ci sia alcuna evidenza geologica che in tempi passati ci fossero su questo pianeta forme più complesse Srila Prabhupada perché consideri l'evidenza geologica finale conclusiva è conclusiva definitiva la scienza sta facendo progressi non puoi dire però che sia conclusiva ho scavato tutte le parti del mondo e ogni volta no non hai scavato in tutte le parti del mondo su sette continenti sette continenti non sono tutto il mondo tu dici di aver scavato in tutto il mondo ma noi diciamo no nemmeno una parte insignificante perciò la tua conoscenza è limitata il dottor Rana ha esaminato il suo pozzo di tre metri e adesso dichiara di conoscere l'oceano la conoscenza sperimentale è sempre imperfetta perché l'esperimento viene compiuto con sensi imperfetti perciò la conoscenza scientifica deve essere imperfetta però la nostra fonte di conoscenza è differente noi non dipendiamo dalla conoscenza sperimentale adesso non vedi dinosauri né io ho visto tutte le 8 milioni 400 mila diverse forme di vita però la mia fonte di conoscenza è differente tu stai sperimentando con i tuoi sensi imperfetti io invece ho ricevuto la conoscenza dalla persona perfetta che ha visto tutto che conosce tutto perciò la mia conoscenza è perfetta diciamo per esempio che io ricevo la conoscenza da mia madre e mia madre mi dice ecco questo è tuo padre mentre tu cerchi di scoprire chi sia tuo padre per conto tuo tu non vai da tua madre a chiedere e continua a cercare e a cercare così per quanto tu possa cercare la tua conoscenza rimarrà sempre imperfetta e la tua conoscenza dice che milioni di anni fa c'erano forme elevate di vita su questo pianeta continua ragazzo sì sì infatti la conoscenza vedica riferisce che il primo essere creato il più intelligente è la persona più intelligente dell'universo Sri Brahma l'ingegnere cosmico come potremmo quindi accettare la tua teoria che l'intelletto si sviluppa con l'evoluzione noi abbiamo ricevuto la nostra conoscenza vedica da Brahma che è così perfetto il dottor Rana ha esaminato il suo posto di tre metri la sua piccola riserva d'acqua anche l'oceano atlantico è una riserva d'acqua ma c'è una bella differenza il dottor Rana non può darci informazioni sull'oceano atlantico però noi accettiamo la conoscenza di chi ha fatto l'oceano atlantico perciò la nostra conoscenza è perfetta e lui continua ma non dovrebbe esserci qualche prova sottoterra qualche fossile Srila Prabhupada la nostra evidenza è l'intelligenza non è costituita di pietre o di ossa la nostra prova è l'intelligenza noi riceviamo la conoscenza vedica dalla successione dei maestri spirituali autentici a partire dal più intelligente arriva fino a noi con il metodo di Shruti con l'ascolto Vyasadeva ascoltò da Narada Narada da Brahma milioni e milioni di anni fa molti milioni di anni fa ma per Brahma non costituiscono nemmeno un giorno quindi per noi milioni e miliardi di miliardi di anni non sono niente di sorprendente in quanto essi non costituiscono nemmeno un giorno di Brahma Brahma nacque da Krishna è una filosofia intelligente esiste nel nostro universo dalla nascita di Brahma Brahma all'inizio fu educato da Dio e la sua conoscenza è stata trasmessa fino a noi per il tramite della letteratura vedica così noi otteniamo tutte queste informazioni intelligenti dai Veda ma questi cosiddetti scienziati e filosofi che non seguono questo metodo di conoscenza discendente che viene proprio così che discende e non accettano la conoscenza ricevuta in questo mondo da autorità superiori non possono mai avere una perfetta conoscenza non importa quante ricerche facciano con i loro sensi ottusi perciò tutto quello che essi dicono noi lo consideriamo imperfetto il nostro metodo è diverso da loro loro stanno cercando delle ossa morte noi stiamo cercando cervelli vivi questo è il punto da sottolineare essi hanno a che fare con ossa morte noi ci occupiamo di cervelli vivi quale dovrebbe essere considerata la cosa migliore quindi con questa frase molto significativa finisce questo testo che abbiamo letto di appunto Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada del quale adesso per chi non lo conoscesse vi leggo una breve biografia Esi Bhaktivedanta quindi la persona che ci ha spiegato queste cose Bhaktivedanta Swami Prabhupada nasce a Calcutta nel 1896 riceve dai suoi genitori il nome di Bengali di Abai Charande che significa senza paura avendo preso rifugio ai piedi di loto del Signore significato di Abai Charande significa appunto senza paura Abai significa senza paura avendo preso rifugio ai piedi di loto del Signore nato in una famiglia di Vaishnava quindi Vaishnava significa devoti di Vishnu quindi i suoi genitori erano già devoti di Vishnu e Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada respira fin dai suoi primi istanti di vita un'atmosfera spirituale vedete Abai Charande partecipa in modo attivo al movimento di non violenza di Gandhi ma all'anno 1922 in cui termina gli studi all'Università di Calcutta segna una svolta nelle sue attività con l'incontro di colui che dovrà diventare il suo maestro spirituale sua divina grazia Shri Shrimat Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj eccolo qui la fotografia che ho ritrovato questo è il maestro spirituale sua divina grazia Shri Shrimat Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj questo fondatore della Gaudia Matt che moltiplicava allora i suoi centri se ne contano 64 nel 1922 in India ma anche a Londra e a Berlino Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati gli affida il compito affida il compito a Shri la Bhakti Vedanta di diffondere in occidente la filosofia della Bhagavata Ghita che sarebbe la Bibbia come la Bibbia è considerata viene chiamata così in maniera così insomma popolare la Bibbia Hindu la Bhagavata la Bhagavata Ghita nel 1933 Abhay Charande è formalmente iniziato quindi gli dà l'iniziazione spirituale da e la Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati quindi nel 1933 che nel 1936 poco prima di lasciare questo mondo gli ricorda il suo desiderio di vederlo trasmettere il messaggio della Bhagavata ai paesi occidentali nel 1947 l'istituto della Gaudia Vaishnava lo riconosce come Bhaktivedanta quindi gli dà questo titolo nel 1959 accetta il Sannyasa l'ordine di rinuncia il suo antico nome viene sostituito allora col tradizionale titolo di sua divina grazia e i sì Bhaktivedanta Swami Prabhupada si reca poi a Vrindavana villaggio che vede che vide manifestarsi 5000 anni fa i giochi di infanzia e i divertimenti di Sri Krishna là nella sua piccola stanza del tempio di Radha Damodara traduce dal sanscrito e commenta in inglese il primo canto dello Srimad Bhagavatam e altri testi sacri pile di quaderni di tacquini e persino di fogli di giornale di cui utilizza le parti bianche si coprono pagina dopo pagina di traduzioni e di commenti oltre a questo grande lavoro e si e si bhaktivedanta swami prabupada continua la pubblicazione di una rivista in inglese back to godhead da lui fondata nel 1944 redattore finanziatore tipografo si carica si carica anche di distribuirla una volta alla settimana prende la strada di nuova delhi con le braccia cariche di back to godhead entra nei saloni da tè si siede senza neanche prendere un bicchiere d'acqua e spesso conversa fino a sera tardi con la gente discorrendo sulla scienza della Bhagavad Gita e distribuendo i suoi back to godhead nel 1965 si imbarca su una nave mercantile in rotta verso gli Stati Uniti i suoi manoscritti e i suoi libri più di 40 rupie sono tutta la sua fortuna si stabilisce a New York dove presto numerosi giovani e anche meno giovani sentiranno il fascino della sua grande personalità cominciano a cantare con lui i mantra vedici e assistono alle sue conferenze sulla Bhagavad Gita in un negozietto abbandonato della seconda strada sempre ansioso di continuare le sue traduzioni dei testi vedici e i si Bhaktivedanta Swami Prabhupada si riposa solo dalle 10 di sera alle 2 di mattina il termine traduzione è la parola adatta perché mentre numerosi altri hanno adattato più che tradotto i testi sanskriti secondo le proprie interpretazioni e i si Bhaktivedanta Swami Prabhupada si preoccupa sempre di riportare in tutte le sue opere prima il verso sanscrito originale poi la sua traslitterazione in caratteri romani la traduzione parola per parola e la traduzione letteraria soltanto allora ne precisa il contenuto e il significato ma sempre secondo gli insegnamenti delle scritture si può così facilmente verificare se le traduzioni che propone siano autentiche come vuole la tradizione Vaishnava che perpetua questo modo di esporre per mantenere la trasmissione scientifica delle scritture senza aggiunte personali nel corso dei 12 anni che consagrò più direttamente alla propagazione del movimento del Sankirtana di Shri Chaitanya Mahaprabhu Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondò in tutto il mondo un centinaio di centri per la coscienza di Krishna tra i quali numerosi ashrama rurali dove i suoi discepoli conducono una vita semplice e sana le cui strutture e regole sono rigidamente conformi agli insegnamenti dei testi sacri in ognuno di questi centri si svolgono quotidianamente svariate attività si tengono programmi e conferenze tutte basate sulla coscienza di Krishna Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada è considerato oggi il maestro di filosofia vedica più importante e anche il più letto ha pubblicato numerose opere essenziali come la Bhagavad Gita lo Shri Mat Bhagavatam la Shri Isopanishad l'insegnamento di Shri Chaitanya Mahaprabhu il Nettare della Devozione il Libro di Krishna la Chaitanya Charitamrita tra queste opere lo Shri Mat Bhagavatam merita un'attenzione particolare perché costituisce il commento del Vedanta Sutra entrambi compilati da Srila Vyasadeva l'autore che mise per iscritto i Veda lo Shri Mat Bhagavatam o Bhagavata Purana è un capolavoro di 18.000 versi che rivela l'aspetto personale della verità assoluta e racchiude tutte le informazioni necessarie a stabilire una società cosciente di Krishna nell'ambito della vita familiare del governo delle scienze delle arti eccetera nel momento in cui Krishna lo chiamò a sé il 14 novembre del 1977 a Brindavana nel tempio di Sri Sri Krishna Balarama Eisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada aveva già pubblicato i primi nove canti dello Shri Mat Bhagavatam e una parte del decimo in tutto sedici volumi egli ha affidato ai suoi discepoli il compito di completare la traduzione fino alla fine del dodicesimo canto il che porterebbe a 27 il numero dei volumi secondo la norma vedica un maestro spirituale è colui che ha realizzato il sapere attraverso una successione di maestri i cui insegnamenti non deviano mai neanche nel minimo particolare da quelli delle scritture e dai maestri spirituali precedenti Eisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada è il trentaduesimo anello della Brahma Gaudiya Sampradaya successione di maestri spirituali che risale a Krishna stesso non ha quindi inventato qualche religione o qualche nuovo metodo di realizzazione spirituale ma ha voluto semplicemente far conoscere al mondo la saggezza vedica nella sua forma più pura oggi i suoi libri sono considerati opere di consultazione nel campo degli studi orientali per gli studenti di filosofia della maggior parte delle università del mondo infaticabile sua divina grazia Esi Bhaktivedanta Scusate Swami Prabhupada viaggiava da un capo all'altro della terra rivolgendosi ogni giorno a un vasto pubblico e con costanza istruiva i suoi discepoli trasmettendo loro il suo patrimonio spirituale perché a loro volta essi potessero offrire a tutti la saggezza vedica nella sua purezza originale bene e appunto c'è la seconda parte di questo libro che è molto importante perché parla nella maniera proprio specifica di che cos'è appunto la coscienza di Krishna che andremo a leggere nel nostro prossimo incontro grazie a tutti cari e carissime nel Signore vi ringrazio tantissimo se siete stati attenti fino alla fine in questa lettura magnifica e vi auguro come sempre ogni bene e ci vediamo al prossimo video arrivederci siete all'ascolto di K Radio Vrinda la radio dell'istituto culturale sole e luna imprevedibili imprevisti rubrica di arte e cultura conduce in studio carmelina rotundo auro carmelina.rotundo chiocciola k radio punto net sono la vostra carmelina rotundo auro e veramente questa è una sorpresa esplosiva come esplosivo è l'artista che sta per parlare la mostra è visibile dal 4 al 22 settembre 2022 si intitola tarocchi battaglie e personaggi e l'autore esplosivo Enrico Guerrini lo spazio espositivo è la soffitta spazio delle arti circolo arci casa del popolo unione operaia colonnata ciaspera pisardi sei colonnata sesto fiorentino siamo poco dopo l'inaugurazione che è stata molto frequentata e ci siamo introdotti con l'artista Enrico Guerrini che spiegherà come è nata questa mostra e che arco di tempo interessano queste opere Enrico a te la parola la mostra è nata insomma da un'oscenza tra i miei amici di questo posto e copre praticamente tutta la produzione mia insomma che era una ventina d'anni da quando cominciavo a fare delle mostre di dipinti e che prima essenzialmente disegnavo soprattutto e poi cominciavo a usare i colori insomma le tele infatti parte dalla sera del Staus che si chiamava Omofuge insomma il titolo è questo perché ho fatto un grosso lavoro sul Faust di Gese soprattutto con i disegni e questo è uno che poi avevo fatto e poi parte con insomma la Divina Commedia è un mio grande il ciciacolo ma vallo di battaglia anche questo anche la Divina Commedia da quando sono a liceo e faccio dei lavori insomma anche quelli prima naturalmente tutto disegnato e poi ho cominciato a fare le mostre e a fare delle tele ho tanto materiale ma infatti ho fatto tante mostre quando c'è stato dall'Università dell'Arte insomma la tua la tua ispirazione è da scrittore o cantautore di famonti sì anche quello di Andrea o qualcosa sì perché per un periodo facevo avendo uno stupro organizzatore di mostre che faceva spesso collettive e quindi ci dava dei temi appunto sugli artisti cose che potevano ispirare comunque sì essenzialmente è una ispirazione quasi sempre letteraria perché mi piace leggere insomma comunque sono mi considero un buon lettore insomma ci provo almeno e quindi tante ispirazioni mi vengono dai libri no o anche dai film e poi comunque mi piace guardare e quindi insomma quindi abbiamo parlato di gay c'è di tante sì di tante poi c'è una cosa anche per i parocchi che c'è nel titolo anche della vostra che anche questa viene era sempre di liceo insomma dall'adolescenza non tanto in quanto tarocchi la lettura sempre per quanto riguarda le immagini mi aveva sempre molto attirato perché essenzialmente mi piace cose strane insomma un po' finna che i tarocchi hanno questi simboli no un po' oscuri insomma ho fatto diverse le visitazioni qui c'è due opere grandi due grandi tarocchi una giustizia e una in matto e poi dei piccoli troppi più piccoli interpretate come piccoli altarini dei 200 insomma a fondo oro che ci sono poi c'è due quadri sulla polis ispirati anche questo un po' dall'incisione di Dürer artista tedesco e poi avevo usato anche per fare un altro disegno laggiù della monancolia su Prometeo che è l'altra incisione di Dürer e per un'altra disegno dove salvezza mio papà di Don T-Shot che riprende un po' quella incisione di Cavalera morte di diavolo poi ci sono dei piccoli riferimenti invece una nota che sembra un po' Klimt insomma vuole essere un po' un riferimento a Klimt comunque anche io mi piace molto l'oro come diceva prima che sono sempre più appassionato da questa maniera adorata siamo in un'esplosione di ispirazione perché Enrico Guerrini da quando lo conosco è sempre una sorpresa ogni suo mondo è una meraviglia ed è sempre l'oro ora questa è un'esplosione bella un po' per me anche quello spazio è bello e mi ha permesso di portare opere grandi come questa battaglia questa sarà cresciuta sì anche questa che c'era la lettura del capolavoro di Orwell insomma dei capolavori da parte degli animali e quindi ecco come vedete avete fatto un escursus letterale oltre sì poi proposte di lettura infatti prima faccevano il film per i non vedenti il lunedì sera alle nove e io il lunedì sera con i bambini ascoltavamo questo film per i non vedenti quindi ecco non è proprio una trasmissione per i non vedenti però le immagini richiamano la vostra fantasia ecco sì poi c'è anche l'autostromito un altro promesso eh che è un po' insomma quello di Eschio e poi per finire c'era la ricca testa di Medusa una tentazione di Sant'Antonio non farsi mancare nulla e poi anche un bel parco sulle tre parche sull'estino insomma il filo della vita con il filo con il filo vero molto ricca allora non ti può toccare no ti può toccare certo con il filo vero però ammetto l'onore mia o mi sembra almeno di no perché adesso va dalla su commissione e la insomma chi me l'aveva messiamato aveva detto se potrebbe mettere un filo vero io gli dici certo ma no di fatti che scorre fra le mani che scorre fra le dita sì 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 perché c'è la prima che si ripassava il terzo e il filo la seconda lo misura c'è un metro da piedi e la terza purtroppo taglia non viene arrivata la fine è arrivato il nostro momento finale veramente un'esplosione anche di gioia di arte un tutto ma quello le arti c'è anche un po' di momenti più scupi ma sì sì però è più di come ispirazione certo nella vita bisogna condividere le gioie e la ispirazione quindi se no non saremmo vivi se fosse tutto fiazza e tutto capito c'è un po' facciamo gli auguri a quest'artista che è sempre un artista promettente perché Giovanni giovanissimo è nato a Firenze il 16 febbraio 1967 quindi giovanissimo ma con un percorso artistico intenso che fa pensare che abbia tutta un'altra età così variegato e avete anche un sito che potete consultare non è molto aggiornato purtroppo ma si cerca di aggiornare più presto www.enricoguerrini.com su facebook su instagram quindi vi invitiamo a visitare tutte le possibilità e a venire a questa bellissima entusiasmante esplosiva mostra grazie carmelina rotondo auro e grazie 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 una serata meravigliosa sono la vostra carmelina rotondo auro e vi passo l'organizzatrice Elena tra l'altro c'ha un nome che nell'immaginario comune è veramente fantastico allora Elena ci vuoi spiegare come nasce questa serata buonasera sono Anel Settini grazie da Villa Vittoria la serata nasce che la cosa più bella abbiamo qui l'interprete di Pinocchio dopo 50 anni ve lo ricordate quel bambino sorridente Bellino che insieme a Nino Manzullidi insieme alla Lollo Brigida insieme ai più grandi attori dei tempi che insomma conosciamo ci ha raccontato molti aneddoti ci ha raccontato delle cose che noi non sapevamo soprattutto di come un bambino di 7 anni si rapportava a questi giganti del cinema che erano già famosi e qui abbiamo direttamente sia l'autore del libro ma soprattutto l'autore il protagonista del film Pinocchio 50 anni dopo volevo dire una cosa lui non era attore è stato scelto attraverso un casting all'interno delle scuole e pensare che tutti questi grandi attori erano dietro questo bambino che è il personaggio del film quindi passo Andrea Balestri buonasera a tutti sono Andrea Balestri dopo 50 anni sono qui a presentare in questa bellissima meravigliosa villa il mio libro Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo e Carmeline chiedimi cosa vuoi chiedimi cosa vuoi e ti rispondo allora quali sono le tue impressioni io ho ascoltato tutto con grande entusiasmo mi ha reso felice questa serata quindi vai a rota libera magari racconta di Franco e Cicciograzia che erano dei grandi comici il tuo rapporto sì il mio rapporto con tutti gli attori del cast sia Manfredi Franco Tranchi Cicciograzia è stato bellissimo perché erano persone che avevano cioè grandissimi attori che avevano capito che Andrea Balestri non era un attore ma era un bambino di 7 anni preso da un rione di Pisa e buttato in un mondo che non era suo che posso dire che con loro è stato meraviglioso conoscerli meraviglioso lavorarci insieme i ricordi sono tantissimi bellissimi non basterebbe una serata raccontare provare il tuo libro come si fa per acquistarlo? per acquistare il mio libro basta andare su anche su Facebook cercare la mia pagina di Balestria Andrea chiederlo io lo spedisco a destinazione il titolo del libro? Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo una serata veramente stupenda sia per la location sia per la grandezza di questa persona che è rimasto Pinocchio Pirichino e Pirbante come Pinocchio un grande della nostra letteratura un grande del cinema e Comencini Comencini vuoi dire due parole su Comencini? Sì Comencini Comencini per me non è stato un regista ma è stato un babbo come si diceva di parte oppure un padre in italiano un padre perché tra noi c'era affetto è nato quel grande affetto che un padre sa dare al proprio figlio e il figlio può dare al proprio padre era dolcissimo paziente e tutto questo vuoi nominare velocemente gli attori che ti sono rimasti nel cuore nel cuore mi sono rimasti il grandissimo Nino Manfredi i grandissimi Franco Franco e Ciccio in Grazia Domenico Santoro nella parte di Lucigno che non vi era spesso lamentato ma è stato un grande anche lui un amico sul tetto perché era un ragazzo un po' più grande di me sicché era mio compagno di giochi lì onestante Vittorio De Sica il grandissimo Vittorio De Sica e anche la signora Lollo dai sì certo e senti il messaggio per il futuro che vorresti dare cioè la tua vita è cambiata da prima di Pinocchio a dopo in che cosa è cambiata? è cambiata niente cioè durante quegli anni che diciamo ho fatto Pinocchio l'artifin era un po' più diciamo leggera perché era un bambino oggi a distanza 50 anni è cambiata perché sono un padre un nonno e diciamo la mentalità è un po' più diciamo aperta un po' più da persona responsabile anche se sono sempre lo solito l'anima è quella più vivace sincero allora vogliamo salutare gli ascoltatori Carmellina Rotondo Auro e Carmellina Rotondo Auro e Andrea Balestri buona serata grazie 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 che serata stupenda grazie grazie una serata stupenda a Villa Vittoria abbiamo appena parlato con il bambino che ha interpretato all'epoca aveva 7 anni Pinocchio e parlando e parlando così nel nel contesto di questa bellissima serata ho scoperto che c'è presente un altro personaggio Alberto Vangelissi che vi parlerà del suo lavoro forse mi diceva poco fa unico al mondo io mi occupo di applicare delle fiste magnetiche delle colonne sonore ai film in pellicola non è casuale che con Andrea infatti facciamo anche delle proiezioni cinematografiche proprio di cinema in pellicola quindi proiettiamo di regola il cinema di Pinocchio proprio in pellicola con queste fiste sonore che io elaboro regolarmente non la faccio ovviamente solo per questa situazione di Pinocchio ma anche per tanti cinecollezionisti presenti in tutto il mondo e anche per delle cinepeche che richiedono questo servizio è un'applicazione particolare perché si tratta di applicare una fiste magnetica sonora a bordo della pellicola che poi verrà incisa e questa è la colonne sonora del film stesso un lavoro molto difficile sì io è una storia un po' lunga ho avuto questa macchina andandola a rilevarlo in un laboratorio di Milano che era il laboratorio Lorenzetti che era uno dei più grandi laboratori di sviluppo di stampa a livello europeo e tra i vari macchinari aveva anche questa macchina che si chiama pistatrice e questa macchina appunto alla fine io poi l'ho rilevata prima che il laboratorio smettessi la propria attività e ho iniziato per conto mio diciamo a fare questa cosa per passione poi mi sono accorto che alla fine è rimasto soltanto io con questa macchina un po' in tutto il mondo diciamo capace di fare queste fiste sonore magnetiche e per cui mi sono visto arrivare progressivamente delle richieste da tanti amici cinecollezionisti un po' stati in tutto il mondo mi arrivano richieste dall'Australia dall'India dalla Norvegia dalla Francia dall'Inghilterra dagli Stati Uniti insomma quindi lei viaggia molto no 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 faccio tutto dalla mia serie praticamente è come Giulio Verne senza viaggiare diciamo ricevo ricevo il film da parte dei cinecollezionisti applico la palona sonora magnetica faccio un'altra operazione che si chiama Re Record che consiste nel fare il doppiaggio del film e lo faccio in un vari lingue in inglese in tedesco ovviamente in italiana non in spagnolo quindi le richieste sono queste io cercalizzavo dirle per quanto è possibile e bene dire anche che ovviamente siamo in piena epoca digitale che le pellicole sono una cosa diciamo da appassionati osservate alle cineteche da museo proprio non da museo non mi piace troppo questa definizione però insomma diciamo c'è un discorso di nicchia ecco questo sì no no interpretavo il museo come un luogo dove si raccolgono le cose ma poi si fanno vivere perché questa è la direttiva dei musei in questo senso sì ha mai pensato Alberto a istituire una scuola per poter dare diciamo questa questa sua tecnica ad altri ma al momento al momento no sono sincero non non ci ho pensato non non escludo che possa che possa anche accadere questa cosa perché sarebbe bello che alcuni giovani che sicuramente ci sono appassionati potessero diciamo apprendere quest'arte così difficile e poi diciamo portarla avanti perché se lei fa cent'anni non ci sarà più è come il segreto della robbia come il segreto della robbia nessuno saprà però vede il discorso è questo siamo come dicevo prima a piena epoca digitale quindi questa è una cosa come si dice oggi soprattutto analogica e non so quanto i giovani magari sono interessati quando mi capita di parlare con un giovane gli parlo ad esempio di pellicola super per dire un passo di pellicola magari pensano che si tratta di un supereroe cambiate il linguaggio sono cambiate le cose però come tutte le civiltà si arriva al picco e poi si tocca indietro posso dire che quando vado a delle convention decine di collettionisti sono stato spesso in Inghilterra sembra nevicato sono tutte persone io sono il più giovane forse ci sono tanti allegri ottantenni settantenni e non so se questa cosa della pellicola in assoluto avrà un seguito e quanto l'opera io per quanto possibile finché ci sarà chi me lo richiede anche a livello di passione farò questa cosa cioè quella di applicare le piste sonore magnetiche che poi tra l'altro consentono ad ognuno di poter fare un doppiaggio nella lingua di origine in questi giorni mi sto trovando ad esaudire una richiesta da parte di un cinecollezionista indiano e quindi dovrò fare un record che si chiama come dicevo prima nella sua lingua insomma è un mestiere diciamo appassionante è un mestiere artigianale perché serve molto un'applicazione non solo materiale ma anche un'intelligenza e un'attenzione particolare perché penso che la precisione deve essere al massimo sì del tutto artigianale pensi che la pasta magnetica liquida che poi andrà applicata come colonna sonora come un'attriccia magnetica a bordo della pellicola c'era solo un'azienda in tutto il mondo che è in Normandia che ancora la produce quindi solo questo insomma è già difficoltoso e c'è stato un periodo in cui non riuscivo più a trovare la pasta magnetica poi scusate perché c'è ancora questa azienda qui che fa questa pasta magnetica anche per produrre dei nastri magnetici che servono per i registratori audio che nel caso servono anche a me per la pellicola quindi sì è una cosa del tutto artigianale perché si tratta praticamente di prendere questa pasta magnetica liquida e di farla diventare come un corpo unico con la pellicola ripeto a bordo del film che poi quella sarà la colonna sonora magnetica in questo caso della pellicola quando si parlava di magia è diventata magia il cinema perché oggi siamo ad alti livelli ad altre tecniche super super ma questo che è stato fatto si può veramente definire magia sì penso di sì infatti quando organizzo degli eventi sempre facendo proiezioni in vera pellicola cinematografica mi rendo sempre più conto che gli spettatori stessi sono stupiti di vedere un proiettore cinematografico con delle grandi bobine che gira proiettano immagine a 24 fotogrammi al secondo eccetera e poi scopro scopro anche mi è capitato di fare qualche intervento per esempio nelle scuole anche elementari in me che i bambini ragazzi non sanno neanche come nasce l'immagine cinematografica quindi sotto questo aspetto sì indubbiamente è un'arte che va un po' scomparendo questo aspetto lui sì perché oggi si istruisce dell'immagine senza però sapere in realtà come nasce insomma si sa che l'hanno inventato il cinema ma non si sa come funziona purtroppo per questo devo dire che non lo suonano insomma e sì noi mi permetto di dire e di accomunarlo un po' alla mia età la nostra generazione è stata super fortunata perché ha vissuto l'area e l'epoca anti internet cosa impensabile diciamo di avere un telefonino di avere tutta a disposizione noi avevamo il telefono fisso avevamo il cinema e io dico parlando appunto con Alberto che la nostra generazione veramente ha vissuto a cavallo di queste due epoche e ha potuto godere di questa artigianalità di questo fare sulle mani e ora vive questa nuova era sì hai detto bene abbiamo vissuto la magia del cinema e c'era tanta 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 manualità incluso proprio diciamo il lavoro che faccio io completamente manuale se lei vede la macchina che applica la pizza sonora insomma è affascinante ti manderà una foto eh promesso anche una foto del suo lavoro così veramente sarà una puntata eccezionale anche da punto di vista visivo mi ha strappato una promessa per la macchina grazie 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 allora vi saluto la vostra carmelina rotundo auro e alberto angelissi grazie 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 siamo di nuovo in onda perché la serata è appena di sorprese vi presento un altro personaggio che è stato il conduttore ma mi ha rivelato che anche ho fatto il regista salve salve a tutti Piero Torcelli sì il conduttore è quello che io faccio sul palcoscenico anche presentando festival del cinema come a Prato a Castiglione Fiorentino quindi insomma l'ambito del cinema per me è familiare ma nasce tutto da una grande passione infatti poi l'ho voluto anche studiare come regista perché c'è chi diceva che la tecnica si impara in cinque giorni poi però mi sono accorto e non è vero però poi ho capito questa provocazione di Orson West cosa voleva dire cioè che poi servono i contenuti e allora io faccio il regista perché mi piace raccontare storie stasera siamo a Villa Vittoria nell'angolo il libro della settimana dove abbiamo presentato il libro di Andrea Balestri Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo perché il film di Luigi Fomencini appunto in cinque ore per la versione televisiva e due ore per quella cinematografica ha protagonista Andrea Balestri oggi Andrea Balestri è un uomo però ha sempre lo sguardo da Pinocchio ha sempre l'argento vivo come Pinocchio ed ha sempre quella freschezza e voglia di giocare che distingue un po' anche noi toscani perché nella vita non bisogna mai prendersi troppo sul senso quindi noi in giro portiamo questo libro Andrea porta in giro il suo spettacolo teatrale e con l'amico che abbiamo sentito prima Alberto Vangelitti che è un collezionista di film in pellicole facciamo la proiezione del film appunto in versione cinematografica tutto questo perché appunto nasce dall'amore di raccontare il cinema di raccontare queste emozioni e nasce dalla voglia anche di raccontare un cinema di artigianato perché oggi l'artigianato è digitale con la figliaia del computer è sempre artigianato io non discuto però effettivamente i costumi cuciti a mano le scenografie realizzate a mano io credo che lì c'era forse più poesia non dico bravura e allora siamo rimasti un po' attaccati a quella pasta della pellicola che ci ha contraddistinto negli altri quando mi domandano ma come ha fatto il bombone di scappare la cupola a me mi viene spontaneo rispondere perché gli uomini del passato avevano contatto diretto con la materia cioè la sentivano arrivavano all'anima della materia perché toccare una pietra toccare la terra che poi i bambini fanno di continuo si arriva all'essenza delle cose se tu non tocchi le cose come fai per costruire non viene fredda non viene non viene con l'anima infatti c'è meno poesia infatti in cinema di adesso è molto cambiato ecco per forza si raccontano storie diverse c'è una società meno divertente ci sono le piattaforme che danno la possibilità di stoppare il film e riguardarlo due ore dopo il giorno dopo però questo non è bello perché quando si guarda un film si spenge la luce si sta in rigoroso silenzio e si guarda dall'inizio alla fine non sui cellulari in sala quindi mi raccomando cari amici andate in sala a vedere il film perché l'emozione della sala non ve la dà nessuno è unica io mi ricordo la mia generazione ne ha goduto anticipazioni per il futuro? per il futuro io sto preparando il mio primo lungometraggio che è una storia brillante e romantica dedicata a un personaggio che viveva nel mio paese io vengo da Figline Valdarno a 20 km da Firenze e questo signore era un signore sordomuto che è stato abbandonato dalla famiglia si parla di un uomo che oggi avrebbe avuto più di 85 anni quindi in quell'epoca la famiglia fontadina non era pronta ad affrontare un ragazzo sordomuto era un handicap che non sapeva come gestire e quindi è stato abbandonato lui è finito in manicomio a Sant'Albi a Firenze e poi ha vissuto tutta la vita in una casa di riposo quindi la base è quella triste però io inizialmente ho detto una cosa brillante perché poi questo personaggio era struttosissimo aveva una faccia una maschera di gomma buffissima una persona molto buona con uno sguardo molto dolce ovviamente io ho anche infiocchettato qualcosa tipo la storia d'amore che porterà a fare un ragionamento ogni tipo di vita vale non è che se uno ha vissuto una vita in una casa di riposo non vale la pena non l'ha vissuto è comunque la sua vita e quindi ogni tipo di vita vale questo è quello che io vorrei raccontare e dare come messaggio bellissimo anche commovente è vero ogni vita è donata non facciamo nulla per meritarcela e ogni vita veramente ha un suo fine ha un suo scopo se siamo su questa terra transitori però mentre transitiamo possiamo veramente fare delle cose belle quindi con questo messaggio veramente commovente concludiamo la serata Carmelina Rotundo Auro e Piero Torricelli un saluto a tutti io sono stata la protagonista delle ragazzi io sono Nadia lettura e conversazioni con Nadia Mirasoli buon ascolto qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e rincomincia il canto te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue dinte e vene sai divide le luci in mezzo al mare penso alle notti là in America ma erano solo le lampare e la bianca ascia di un'elica senti il dolore nella musica si alessò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte guardò negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue dinte ve ne sai potenza della lirica dove ogni dramma è un falso e che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti là in america e ti volti e vedi la tua vita come la scia ad un'elica ma si è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto te voglio bene assai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue dint bene dint bene sai te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue dint bene sai letteralmente radio yoga network presenta radio notizie un programma prodigio dedicato al radio ascolto condotto da dario gabrielli letteralmente radio yoga network www punto letteralmente punto info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network piocciola gmail punto com buon ascolto un saluto a tutti gli ascoltatori di letteralmente radio dalla redazione di radio notizie oggi oggi parliamo dei vari tipi di antenne per ascoltare le emittenti di tutto il mondo alcuni ricevitori dotati di antenna telescropica incorporata sono spesso allergici all'uso di antenne esterne improvvisate e vanno perciò assecondati tutti tutti gli altri ricevitori necessitano di antenne preferibilmente esterne e di buona presa di terra realizzate secondo le norme vigenti in tema di sicurezza e degli impianti la prima antenna del radio ascoltatore consiste di solito in 5 15 metri di cavetto flessibile di rame teso tra due isolatori ancorati a due pali o sostegno equivalenti il prolungamento di un'estremità del cavetto sino all'ingresso del ricevitore costituirà la discesa ad antenna oltre all'antenna è indispensabile un paio di cuffie di tipo leggero che sono ottime ed economiche tipo quelle di da passeggio è utile anche un registratore a cassette che oltre a permettere un immediato radio ascolto consentirà di registrare un archivio sonoro gran parte dei programmi in italiano delle emittenti estere viene diffusa tra le ore 19 e le 23 e 30 ore italiana dove si possono ritracciare sulle onde medie e sulla gamma di onde corte durante il programma ogni emittente fornisce l'indirizzo, gli orari e le lunghezze d'onda delle trasmissioni bisogna prendere accuratamente nota in quanto serviranno a sintonizzarla in altri orari o nei giorni successivi ciascun emittente possiede anche un proprio segnale d'intervallo caratteristico che vi aiuterà sulle successive ricerche chi volesse avere informazioni più dettagliate può richiedere notizie al mio indirizzo che è radionotiziechiocciolahotmile.com oppure Gabrielli Dario Viale della Resistenza 33B 30031 Dolo Venezia 20031 Dolo I Vesco provenientate durate S.R.A.A. is a collection of shortwave radio recordings that you can download or listen to as a podcast. The collection grows every day and includes both historic recordings and current recordings from the shortwave radio spectrum. The goal of this site is for shortwave radio enthusiasts to have a place to store, archive and share their radio recordings with the world. shortwavearchive.com Radio Krishna è questa Radiofonica estaticamente parlando O meglio, ascoltando Ovunque in Italia non c'è paragone Yeah And Weahle Hele 電 qui c'è la quittà قال تعالى aureo di الله di lui di lui in l'allà d'amore con l'addi e l'ahsian e l'età e l'allà 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 . صدق الله l'allà 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 , l'allà , l'allà . evitè . , , humè . . A presto. 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 Grazie a tutti. 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 L'anno prossimo. Grazie a tutti. 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 in questo mondo. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. ti prendi il numero. No, 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 no. non ci perdo. tempo. la telecom. non vuole solo il numero di codice, la radio. queste cose qui, dopo, comunque io, insomma, mi ero guardata in faccia questa persona, ma anche per vedere se è una persona che magari lo fa per dispetto oppure c'è qualche problema, guarda, stavo in ospedale per i tuoi, stavo aspettando il mio turno, mio marito ha detto guarda che c'è, MK2, e perché mi importa, ma lo conosci bene questa persona? Sì, una volta si è presentato e allora gli ha detto, Vladimiro, tu perché fai gli scherzi a ella? Per ridere. E quanti anni ha circa adesso? Avrà una quarantina d'anni. Non ha niente da fare, non lavora, non ha una famiglia, non ha niente. No, perché ha dei problemi. Ciao Emiliano, è caduto il tempo. Dopo l'ho domandato a qualcuno del suo paese e gli ho detto, com'è sto tizio? Dice, è scemo. Basta, chi gli vai fa? E voglio dire a questa persona che è riservato, non la prendo adesso, mettiamo un brano. finché non si libera il telefono. Ed ecco il numero, un attimo, fermiamo tutto. Pronto? Ma ma che bello tempo, l'ucile è già spalita, lì ne vracce tutte, se resti a rite. L'usura tutto quanto, la vita è rallegrata, allora so, San Marco, una passeggiata per te mi fa. San Marco, che bello deve avere, specie se va su cima, se la sentisce carietta fina, chi la deve fare creare, se vede la pinetta, è proprio una bellezza, bellissima, grazie. Prego, prego, non c'è di che. Grazie, super. Buonasera, Ella, come stai? Bene. Io pure, grazie a Dio sto bene. Ecco. Ieri che hai fatto? Sono stata qui in radio. Ah, io invece sono andata a San Marco ieri mattina, alle 9 stavo su, e poi sono scesa alle 7 di sera. Ma era notte quasi? No, alle 7 qui è giorno. Io sono tornata a casa verso quell'ora, verso le 7, sì, sì, perché Giancarlo era andato a pranzo. Eh no. Senti, vuoi sentire quella dell'ascensione? Come no? Allora, dopo tre ore buone, ecco qua siamo arrivati, marito si è distracca e mi segno una cosa data. Mangiamo qualcosetta, viene e metto la tassa di ecco, dopo tante cose non c'avamo da vedere. Marito c'è chiede, mo' di stancima la scensione, guarda quando se marito lasse vene lo pesce fritto. Marina in virtù, quanta gente sta quassù, c'è chi sono le sganette, la violetta chissà santa, giovanotte fanno delette, non giudite se sta a ballare. E hai visto l'ora chiesa, quanta gente è incalcata, più tardi te ci porta, quanta bocca si è sfollata. Questo è il monumento, quello che lo crociò, mare in monta qua su vede, guarda a scuola sta io. Marito c'è chiede, mo' di stancima la scensione, guarda quando se marito lasse vene lo pesce fritto. Marina in virtù, quanta gente sta quassù, c'è chi sono le sganette, la violetta chissà santa, Giovanotte fanno delette, non giudite se sta a ballare. Marietta diciamo, bisogna recalare, se non andranno ancora campiamo, quassù avevamo da riveni, la scensione, ma ci scordiamo, te lo giuro, marì, marì. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Cala a tutti. Cala l'età, calala a tutti. L'età diventa sempre di più. Eh? L'età diventa sempre di più. Beh, l'età non si conta. Eh. L'età i bicchieri di vino non si contano mai. Ci mancherebbe tanto proprio a contarli. Ieri una su Samasmi dice, ma... Ti può sapere quanti anni hai? Eh? I mani sempre così? Eh. Per l'anno e le ballette, ci sono tante. Però a te te li chiedo gli anni, no? Allora non me li chiedono. Non si chiedono. Non si chiedono. A le signore poi non si chiedono gli anni. Vabbè, buona sera, ti chiedono il tuo maiale, eh? Sì, sì, io ti aspetto. Ok, buona notte. Ciao. E saluto tutti, eh? Buona notte a te, Bernardo. Sì, ciao. Ciao. Salutiamo la super. E... Che pazienza riservato. Ciao. Tanto lo fai uguale, eh? Paghi 0734966353. Perché questo è un servizio. E i servizi si pagano anche se ci sono le offerte. E vediamo di rimettere il brano 0734966353. la vita è rosa. E vediamo la prossima. Sì. Pronto? Ciao, bella. Sono Vino Daniele. Sì, Daniele. Vedi, è inutile che qui parliamo dei pezzi grossi, di come si comportano. Quando tu hai detto l'altra volta il popolo pure, no? Che fa una nazione. Basta guardare che gente siamo circondati, no? Infatti. Si divertono... Io non ho parole. Qui si parla di problemi seri, di... Anche... Tu vedi la differenza, anche Petra, che io stimo molto. Ti ricordi che ha detto che parlavamo delle localizzazioni delle fabbriche, no? Che il fratello, siccome era uno di quelli che è un pezzo che c'era il lavoro ben avviato di dentro dove lavorava, hanno localizzato la fabbrica, che vanno a sfruttare a questi ragazzi che lavorano in questi paesi poloni, più poveri, e gli dà uno stipendio da fame, invece quelli 3-4 italiani che hanno il lavoro nelle mani li portano là e loro mai riprendono 3-3 mila euro e lei contestava il fatto che anche il fratello si approfittava di questo sistema, diciamo, che andava a lavorare là, no? Sì. Stavo costretto, non so, però lì anche che era il fratello di lei diceva, io ce l'ho anche con mio fratello che è andato là, che sa bene come funziona, che sfruttano questi poveri operai, ti voglio dire, no? Quando già una persona fa un'autocritica, una persona stimabile anche verso la sua famiglia, verso... Certo. Invece questi si divertono a giocare qui, a telefonare, a fare le pernacchie, cioè voglio dire, ci sono gente, gente, io per esempio sta gente come Petra, la Stimo, uno di Pescara, dopo te volevo dire un'altra cosa, qui ho visto il televideo, oggi pure una ragazza di 24 anni ha gettato il feto in un cassonetto, voglio dire... Anche. Una volta poteva stare che la gente c'erano meno anticoncezionali, che rimaneva incinta, oggi, Dio Santo, dico c'è tutto... Daniele, tu pensa, una donna può andare in ospedale per storire anonimamente e non riconoscere? Io anche queste robe mi vanno in bestia, perché voglio dire che tutti... Tu pensi che si conosca questa legge? Infatti non è che se ne parla tanto però, è tutto nascosto qui, io l'ho sentito dire, sì che c'è, però non è che ne la pubblicizzano molto, perché magari se ci fosse un po' più di trasparenza, però io ti voglio dire gli anticoncezionali, quanti ce ne sono? Tanti, di tutte le quali... si può andare al consultorio? Sì, voglio dire, se te non c'hai intenzione di tenerlo, c'hai problemi... ma voglio dire, ma questa buona creatura, che colpa ce n'ha che l'ha avuto in un caso? E non è il primo caso, se ne senti svariate migliaia, diciamo... Io dico sempre, non ci posso capitare io ad aprirlo? Infatti, però voglio dire, ma è una roba vergognosa, siamo nel 2013 con tutto... Se non vuoi tenere un bambino già di tutto e di più, boh... C'è tutta l'assistenza, solo che non si conosce le strutture... Si rimane a bocca aperta, senti certe notizie, boh, non c'ho parole, guarda... E quella ragazza a 19 anni, uccisa e buttata... Era pure il giorno era... Eh, c'è da pensarci... Basta che non sia un altro caso di Ara, che se dura mesi e mesi non si scopre chi è che sta... L'hanno spesso tanti soldi e basta... Perché c'è dei casi qui, degli omigidi proprio che... Anche adesso, quello lì di Perugia, riaprono il processo... Ma tutti i fidi della giustizia d'Italia? Ma te ce capisci... Parlamoci chiaro, ce capisci niente, anche il processo di Merit Kerk... C'hai capito niente, io non ce l'ho capito niente ancora... No, no, adesso lo riapre e poi alla fine lo assolvono... Ma voglio dire, anche là in America che figura facciamo noi? Che giustizia c'era? Prima ti assolvono, poi ti richiamano... Ma in America per la giustizia lasciamola da parte... Tu pensa a quel bambino di 5 anni che ha ucciso la sorrellina di 2 anni... Sì, l'ha negli Stati Uniti... Poi hanno detto che il fuggile era appositamente costruito per lui... Per bambini, sì... Sì... Ma anche là sta moda di stearmi a sti bambini 5 anni col fuggile... Ma stiamo scherzando... Ma guarda... Cioè qui mi pare che è diventata una moda a far vedere quello che la combina più grossa... Una volta c'è un figlio bravo e serio... Adesso è che la combina... Perché anche in India ho fatto vedere un padre che aveva una Ferrari... E il figlio di 9 anni gli ha dato la Ferrari... Questo scaruzzava dentro la città con un altro amichetto... 9 anni con la Ferrari... Dopo l'ha fermato la polizia... Gli ha fatto una multa grande... Una multa... Ma io ti metto in galera... E gli levavo la macchina al padre... Tutto... 9 anni con la Ferrari... Oltre che una multa salata... Cioè... Sembra una gara... A forte vedere chi è che la combina più grande... Perché ormai la gente ha assaggiato tutto... Non sta più per stare al centro dell'attenzione... Quello che deve fare... Anche questa qui delle armi a sti bambini... A parte la legge... Ogni famiglia ha già la pistola dentro casa quasi... Sì sì... E' diventata... Voglio dire... Lì pure... Dovrà essere... Io ho dovuto... Babbo era un cacciatore... Quando è morto ho dovuto fare una fila... Perché doveva mettere l'arma a nome mio... Volevano sapere dove l'avevo presa... In soffitta... Dove l'ho presa... Abbiamo rifatto il tetto... C'era quest'arma... Ma non si convincevano... Alla fine l'ha messa anche a nome di mio marito... E sono dovuta andare in caserma accompagnata... Finso... La doppietta era... Ma infatti quello che marcia in regola... Gli fa tutti i cavigli... Sì sì... Sì sì... Sì sì... Sì sì... Invece... Che si chiede lì... Entità false... Anche rubate... E tutto da rifondare... E la giù è la gioia più serizzata... Ma partì pure da noi stessi... Perché tu fai un programma notturno... Che ci dedichi tanta pazienza... Ci dai modo di parlare... E c'è gente che sta a fare i pagliacci... Quando qui... Lasci... Sta a fare i pagliacci in un'area... Perché ti dico... C'è una delle cose da pensare più importanti... Certo... Va bene... Un buon rientro a casa... Buonanotte... A te la signora... Ciao... Grazie... Salutiamo Daniele... E vediamo... Sì c'è il numero... Pronto? Buonasera Ella... Buonasera Stefano... No... Non so Stefano... No... Sei forchetta... Ecco... Ecco... Saluto... Super Pettinella... Sii visto quanto è brava... Eh beh... Oh... Io conosco... Eh... Quando sonate... Perciò... Io non la conoscevo... Beh... E poi anche l'Italia di Macerata... E poi tutti gli altri... Come andiamo? Bene... Io pure... Sto bene... Sto in attesa... Di ritornare in ospedale... Che devi... Eh... Mi devo mettere... Devo fare il bypass... Le gambe... Ah... Ecco... Ti faccio tante... Tante ru... E siccome mi fanno male le gambe... Non c'ho tante... La circolazione... La circolazione... Allora... Capito... Eh... Sto in attesa... Ma vediamo un po'... Ha detto... In questa... Questa settimana... Mi chiamano... Ecco... De che si parla? Del più... Del meno... Del più... Del meno... Sì... Va bene... I fatti sono sempre quelli... La cattiveria nel mondo... Eh... Senti... Ti puoi segnare... Se puoi... Eh... Siccome domani... E' un compleanno di Annarella... Annarella? Quale Annarella? Annarella di Ascoli... Ah... E' una che ascolta... Non sai perché te lo chiedo? Perché avevamo un'annarella... Di Porto San Giorgio... No, no... Questo è di Ascoli... Anche Annarella... Oppure anche Anna si chiama... Anna di Ascoli... Si chiama Anna... E' un'annarella che finisce 90 anni... 90 anni... Auguri... Anna... E poi è una grande donna... Lo credo... E' Pinella... E' Pinella la conosce... Capito... E' grandissima... Una donna... Guarda che ci si può parlare... Ti dà i consigli... Guarda è molto... Molto... Brava... Allora io... Gli auguro per domani... Perché lei sta ascoltando a quest'ora... Ah si... Io scrivo Anna Rella... Di Ascoli Piceno... Si... E... Gli faccio tanti auguri... Da me... E da parte di Paola... Benissimo... E anche io gli faccio... Tanti auguri... Ah... Va bene... Ci sentiamo allora... Eh... Sì... Ella... Ok... Ciao... Ciao... Un bacione a tutti... E altrettanto a voi... Un saluto a Paola... Ciao... Salutiamo... Forchetta di Ascoli Piceno... Ci scriviamo anche l'età... Questa non fa... Eh... Cento anni... Augurissime... E vediamo la prossima... Pronto? Ella... Sì... Marianna... Ciao... Te l'ha portata i saluti ieri... Sì... Eh... Mi ringrazio a tutti... Eh... Tu sei stata al lavoro... E noi a divertirci... Eh... No... Comunque siamo stati benissimo... Per me non è un lavoro... Eh... Sì... È un bel posto... È bellissimo... Sì... E mio figlio andava sempre a mangiare Madonna Bruna lì al ristorante... Ah... Lì sotto... Eh... Me ne parlava sempre... Ma si mangia tanto bene a Madonna Bruna... Poi... Ieri ti sono passata davanti... Dico ma guarda un po'... E poi la magerata non è che ci vuole... Tanto... Eh... Così... Dico oggi non possiamo telefonare a Ella... Ci sei fatto tardi... Sennò potevamo... Eh... Ma ha telefonato Ivana... Ah... In Ancona... Ah sì... Quando andava a casa... No no... Prima... Ah... Verso le 4... 4 e mezzo... Cioè il bambino Danielino tanto carino... Riccetto Riccetto... Ma dice un folletto che è... Un folletto... Sì sì sì... Veramente... Eh... C'è il figlio che ha una voce... Canta... Ah... Bravissimo... Poi ringrazio tanto Filalma perché mi ha regalato il libro... Eh... È bello... Eh... Sì... Devo... Adesso incominciare... Ciao Filalma... Sì sì sì... E comunque... Io prima non ho sentito perché mi ha pisso un po' a piena cena... Ah... Che avevo già parlato... Abbiamo parlato della radio stampa... Eh... Che parlava della mafia... Eh... Di quando ha ucciso il conduttore dell'altra radio out giù a Palermo... Ah... E allora insomma di questo... Io adesso poco fa stavo vedendo quello di Tortora... Ah... Il processo... Poco poco perché poi sono venuta qui vicino alla radio... E pure quella è stata un'ingiustizia... Guarda... Sì... Mamma mia... Che poi c'era di mezzo anche la mafia... Eh... Sì sì... Che l'avevano... E l'avevano accusato... Sì sì... Poi dice che non è vero... No... Non è stata una cosa... Adesso... Eh... Oggi si è ucciso un altro disoccupato... Di 62 anni... Eh... Ma era troppo... Troppo vecchio per il lavoro... Sì... Troppo giovane per la pensione... Sì sì... Speriamo bene nel nuovo governo... Dice che forse ce la farà fare qualcosa... Ma dobbiamo vedere... Mariana io dico... Sono entrati... Cominciassero a fare qualcosa... È vero... È vero... Ci dia un sorriso... Ma poi quell'altro gli mette sempre le condizioni... Io non so... Quello che c'è sull'Imu... Perché lui insiste... A chi ha perso il lavoro non li considera per niente... No no... Insiste solo sull'Imu... Io non ho capito... L'Imu è importante per carità... È importante... Specialmente sulla prima casa è chi prende una minima pensione... Sì... Per carità... Quella è importantissima... Però... Però che insiste solo lì e non parla per niente dei disoccupati... Non ho capito... Sai che cosa... Non lo capito questa cosa... Guarda... Che cosa sospetto... L'Imu serve a lui... Perché dovrà dire come l'Igi... Tolgo l'Imu... Oh capito... Ecco... Allora guadagna voti... Ma come... Ma... I disoccupati penso che non gli darà i voti... Perché loro non parlano per niente... Non parla per niente lui... Da quando c'è andato lui che si parla di disoccupati... Prima ne erano pochi... Posti di lavoro... 2000... Poi... Addirittura chi va all'estero che specula sopra a quei poverini che gli è da 200 euro al mese... E che poi qualcuno prende anche qualche minorenne... Prende di tutto... Qualcuno... E no... Guarda proprio... Non ci stanno norme per niente... Come la legge di non far uscire il lavoro dall'Italia... Non la potrebbero fare... E certo... E certo... Anche quello... Perché se tu vai all'estero... E... Paghi le cose là... Ma le paghi anche in Italia... Perché tu sei italiano... Capito... Certo... Mi ricordo che Emiliana qualche notturno fa ha raccontato... Che una signora straniera... Aveva l'obbligo di staccare i cartellini quelli fatti in Italia... Sì... Sì... Una ha portato a lavare i pantaloni... L'aveva presi... Perché non erano... Erano di marca italiana... Tutto... Ha portato a lavarli... E hanno trovato il cartellino fatti in Cina... E' un'altra signora qui a Macerata ha una borsa... Ecco... Firmata... Diceva che l'aveva comprata su una cosa... L'aveva pagata carissima... E poi l'ha portata a accumulare... Che gli si era rotta... E gli ha detto... Guarda che questa non è la borsa... Che dici tu eh... Questa è cinese... Però questa signora dice che ha fatto qualcosa su quel negozio... Non so come... E insomma... Ci ha pagato anche... La multa... La multa... Sì... Perché c'è stato qualcuno che... Ma io... C'è un jeans che l'ho pagato pochissimo... Sì... L'amica mia lo portava uguale... L'ha pagato 150 euro... Sul negozio di questi... Io ho detto... Ma guarda... Se tu lo guardi... È fatto uguale... È fatto uguale... Guarda... Ti dico... Boh... Non lo so... Lei dice... No no no... Non può essere perché tu l'hai pagato 10... Io 150... Non è buono... Figurati... Ma se tu gli guardi... È uguale... Che... Boh... Non lo so... Guarda... Ma quello che succede... Adesso... Le regine potrebbero mettere... Quando trovano questi... Quando ritornano qua in Italia... Questi oggetti... Dovrebbero multarli... Eh lo so... E farli pagare... C'è qualcuno che sta fissati... Magari... Perché se spende tanto... È quello più buono... No... E invece adesso è tutto uguale... C'è un'altra amica mia... Che c'aveva un negozio... Tanti anni fa... Tutte cose italiane... Belle... Insomma... Allora ormai è rimasta... Con quella mentalità... Che vuole cose italiane... E aveva comprato... Tre ciabatte di una marca... Pagate 38 euro ognuna la ciabatta... E quando è andata a casa... Ha visto... Ma in Cina... Ma come... Io non presenterei... Perché dice così... Vado a... State ascoltando... K Radio Bologna... Yeah... Ladies and gentlemen... The Krishna Brahma Show... No... No... Grazie a tutti 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 Io sono Grazie a tutti 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 Buon ascolto Grazie a tutti 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 Alberto Alberto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti